Buonasera, benvenuti. Come sapete affrontiamo una discussione sul libro che ha pubblicato da non molto Francesco Benigno, Parole nel tempo, un lessico per pensare la storia. L'interesse del libro è vario, morteplice, se l'avete visto ve ne siete resi contro. Vorrei sottolineare totalmente un aspetto, cioè che la spinta a prendere questa iniziativa scaturisce dal fatto che il libro costituisce uno sforzo di riflessione sulla pratica storiografica, sulla pratica della storiografia nel mondo attuale, o forse in maniera ancora più precisa sulla possibilità di mantenere, per mutuare dal libro un'espressione, una storiografia critica e riflessiva nell'età contemporanea. Dunque, proprio per questa ragione mi pare che i motivi che ci spingono ad affrontare questo volume, a discuterlo, a parlarne insieme, siano molteplici. Io procederei in questo modo, darei subito la parola al professor Benigno che ci introduca alla lettura del libro, poi passerei ad una serie di interventi in ordine, puramente in ordine alfabetico, di prima reazione, di discussione da parte nostra, ed infine aprirei il dibattito sul libro stesso. Ringrazio il professor Benigno di essere qui con noi, ringrazio tutti i colleghi che hanno gentilmente accettato di partecipare a questo incontro e cedo subito la parola per l'introduzione. Grazie. Sono io che devo ringraziare la possibilità di discutere con voi questo testo in un luogo così prestigioso. Il compito di uno che ha scritto un libro e viene a presentarlo è un po' difficile, nel senso che, almeno per me, che ho un po' l'orrore di ripetermi. Allora cercherò di dire qualche cosa che magari nel libro non c'è, e cioè del perché mai uno storico si mette in testa di scrivere un libro sui concetti che usa egli stesso, e che usiamo per pensare alla storia. Devo dire subito che non è che succede così. Non succede che uno si sveglia la mattina e dice adesso scrivo un libro sui concetti fondamentali che utilizziamo. Non avviene perché è quasi forse impossibile, nel senso che questi concetti sono venuti sedimentandosi nel corso della mia ricerca e piano piano io ho avuto il problema di cominciare a occuparmene e per caso e senza averne un progetto ho cominciato a scrivere un saggio, poi un altro, e dopo i primi due ho cominciato a pensare che forse ragionare sui concetti è un'esigenza che io avevo e che forse si può condividere. E quindi questo libro vorrebbe essere un tentativo di condivisione. Poi, ecco, dopo i primi due ci ho cominciato a pensare e quindi ho provato, non so quanto ci sia riuscito, ma questo non aspetta a me dirlo, a provare ad avere uno schema più o meno uniforme di formulazione di questi concetti. E allora adesso poi ho cercato di scrivere anche un'introduzione che rendesse un po' conto del perché poi fare un'operazione di questo genere, del perché farla farla adesso e in che cosa un'operazione di questo tipo è diversa dalla più classica delle costruzioni di storia e concetti, quella di Coselle, che ha naturalmente rappresentato per tutti noi un punto di riferimento costante negli ultimi vent'anni, probabilmente. Coselle, che tra l'altro è stato variamente tradotto in italiano, sia pure in maniera molto frammentata, ma è stato un grande protagonista del dibattito intellettuale. Dunque, il motivo per cui, alla fine, io ho pensato di fare questa operazione è un senso di insoddisfazione, di difficoltà. E la difficoltà che condivido con voi, penso, è l'idea che la storia non morda. Cioè che la storia, come dire, la storia come noi l'abbiamo conosciuta, la storia professionale, la storia accademica, non è che non esista o che non produca o che non... ma ha difficoltà a spiegare l'essenziale. E l'essenziale è il presente. Cioè a dare chiavi di comprensione del presente, di quello che succede. È come se attorno a noi il presente si spiegasse con se stesso. È come se il meccanismo fondamentale di spiegazione con il quale abbiamo costruito i nostri ragionamenti si fosse un po' inceppato. Questo lo diciamo da 15 anni, probabilmente. È quello che si dice la crisi della storia. Ma accanto a questo però c'è anche un altro aspetto che non va disgiunto. E cioè che mentre questo succede, in realtà la storia come pratica, il fare storia come pratica sociale, è enormemente cresciuta. Cioè quindi le due cose forse sono anche da mettere in relazione l'una con l'altra. Una storia professionale che fa fatica a spiegare il presente, cioè a costruire un passato che dia senso al presente. E dall'altra parte una storia che possiamo chiamare mediatica, in cui viceversa la quantità di rappresentazioni, di immagini del passato è enorme e costruisce il nostro immaginario. Vengo da Torino dove ho portato mia figlia che ha due anni a vedere il museo del cinema di Torino. Pensateci un momento a questa cosa perché quello è un museo storico, è un museo di storia. È un museo che vorrebbe raccontare la storia del nostro immaginario. E io riflettevo di quante cose quelle immagini facevano sorgere in me che avevo sedimentato, non come storico, ma come appassionato di cinema, vorrei dire, intanto nella mia vita, riflessioni, concetti, idee attorno a quelle figure che però quel museo non spiega. È come quindi che intrecci un dialogo tra la memoria personale, diciamo così, del visitatore e la rappresentazione di queste immagini, feticcio, che lì vengono... Ecco, questa sensazione di disagio di una storia professionale che fatica appunto a spiegare il mondo, credo che emerge nell'introduzione del libro e emerge e costruisce una riflessione attorno all'idea se è possibile provare a riflettere in che cosa c'è al cuore di questa perdita di capacità di spiegazione. E la risposta che ho cercato di darmi e vorrei condividere con voi, parliamone, è che la storia memoriale o la storia mediatica, qui ho introdotto questo termine, adesso ne possiamo parlare, rappresenta rispetto alla storia tradizionale un diverso modo di collegare il passato e il presente. Guardate, non è una novità. Già nel Seicento coloro che si occupavano di teorie della storia sapevano molto bene, contrapponevano molto chiaramente una storia più basata sulla comprensione, una storia basata più sull'immaginazione o sulla immedesimazione. E' questo che succede oggi, diciamo, forse chissà, viviamo in un'epoca neobarocca, però insomma questo è sicuramente così, cioè noi ci troviamo di fronte a procedimenti di relazione col passato che hanno cambiato, che hanno distrutto i meccanismi causali con cui noi costruivamo delle serie lunghe o meno lunghe, ma che agganciavano il presente al passato, un passato relativamente vicino o anche molto antico. E invece oggi accade che un evento del presente venga collegato direttamente, diciamo così, a un evento del passato. Un evento del passato che ha però certe caratteristiche e le caratteristiche sono le caratteristiche di essere un evento traumatico, che abbia al suo centro la violenza, che abbia una sorta di costellazione, come ho scritto, una costellazione astrologica nuova. Se la nostra costellazione di storici del Novecento è stata quella che vedeva quelle stelle, civilizzazione, progresso, e come stella che sanciva i passaggi di questa civilizzazione, di questo progresso, la rivoluzione. La nuova costellazione della storia mediatica e della storia emotiva è una costellazione che ha al suo centro una stella che si chiama violenza e attorno a questa altre stelle che si chiamano carnefice, vittima, testimone. Credo che tutto questo viva accanto a noi e attraversi la nostra esperienza, non solo di storici, ma anche di cittadini. E credo che conviene riflettere su... Ecco, ma quali sono le alternative che ci sono date in questa situazione? C'è una tentazione evidente, no? Da parte di alcuni colleghi, che è quella di non volerne sapere di tutto questo. Perché in fondo la storia è anche una disciplina sociale? Ci sono le istituzioni, ci sono le accademie, questa, no? Ci sono... E quindi perché occuparsi di questi aspetti? In fondo possiamo continuare a vivere nel nostro cantuccio, nella nostra torre burnea, diciamo, no? E possiamo continuare a farlo senza che il problema ci riguardi. In fondo quella storia lì non ci interessa. Lasciamola ai giornalisti, agli attori, ai divulgatori. Io credo che questa è una scelta perdente. Credo che sia una scelta perdente. Credo che noi dobbiamo almeno sapere che non stiamo parlando di due cose diverse. Qui adesso è un punto molto delicato e vorrei, insomma, tornarci. Stiamo parlando della stessa cosa, cioè della fruizione sociale del passato. E ritenere che noi non ci si possa, non ci si debba occupare di come il passato viene legittimo, insomma, il senso comune della gente, che la storia è una cosa, per così dire, troppo sedia per lasciarla fare agli storici. Allora, se questa risposta io la chiedo insufficiente, dall'altra parte vedo anche un'altra risposta che molti colleghi, verso cui molti colleghi sono attratti. E la risposta sarebbe quella di provare a fare loro, ad avvicinare loro il confine proibito, no? Deontologicamente per il nostro mestiere, tra fiction e non fiction. Questi colleghi che scrivono libri in cui mettono gli inserti narrativi. Questi colleghi che, come dire, tradiscono l'invidia, che è pure la mia, intendiamoci, la mia, nei confronti dei romanzieri, no? Ho letto una bellissima intervista da Amitav Ghosh, che è uno dei miti, no? Di come si può fare storia emozionando le persone, Amitav Ghosh. E lui, in questa intervista, diceva, perché io degli storici ho bisogno, perché gli storici disegnano il fiume. Io poi del fiume non mi occupo, io mi occupo dei pesci. Che è un'immagine, no? Molto, molto bella, no? Diciamo, però, ecco, ci sono molti storici quali, come dire, di fronte a questa questione vorrebbero reagire facendosi in qualche modo produttori di ficzionalità, di fiction, provando anche loro, no? A riempire i testi, no? Del colore locale e anche non locale. Io credo che questa risposta sia un'altra risposta perdente. Allora, senza avere la presunzione di... io dico ragioniamone insieme, no? Però attorno a questo. La risposta che questo libro propone come base di discussione e non come soluzione, perché non ce n'è una soluzione, no? È quella di una maggiore consapevolezza di quello che siamo e di quello che facciamo. E perché questa consapevolezza possa passare, noi dobbiamo distinguerci dai nostri competitori, se così possiamo dire, no? Non perché siamo bravi come loro a emozionare, perché questo togliamocelo dalla testa. Il tempo in cui, come dire, Walter Scott e Jules Michelet potevano competere, forse Scott veniva più copie, ma siamo lì, siamo lì. C'è una competizione possibile. È passato definitivamente. Tra Simon Shaman, non so per dire uno storico famoso, e Steven Spielberg, non c'è competizione possibile. Stanno su due piani proprio diversi. Magari Simon Shaman, che è uno storico molto noto, fa qualche collaborazione a qualche film, ma insomma l'enorme capacità poetica, diciamo, del grande regista che fa storia, perché Schindler List è una grande operazione storica, diciamo anche, non è più in competizione. Allora, che cosa possiamo fare noi come storici professionali? Abbandonare il nostro mestiere? Io credo di no. Questo libro vuole proporre una discussione attorno al fatto che noi non dobbiamo abbandonare, ma non dobbiamo neanche non porci il problema. Non dobbiamo neanche non porci il problema. L'ipotesi sarebbe che partiamo dal bisogno che abbiamo di sapere quello che diciamo, di controllare maggiormente i nostri strumenti concettuali. Questo non è richiesto ai giornalisti, non è richiesto agli attori, a noi è richiesto però, credo. A noi è richiesto ed è richiesto in modo particolare, credo, in questo nostro tempo. Perché in questo nostro tempo? E questo è il punto forse decisivo del ragionamento che io voglio introduttivamente proporvi. Perché se quello che ho detto prima ha qualche senso, non è un caso, voglio dire, se adesso questa forma di fare storia popolare, democratico, diciamo così, democratizzato almeno, si afferma con questa particolarità. Perché il modo nostro tradizionale di fare storia è legato, è stato legato, a quello che, avendo poche parole per dirlo e non sapendo altrimenti che chiamarlo, tendiamo a chiamarlo il moderno. Il moderno in qualche modo, in qualche senso, è una parola estremamente ambigua e non posso qui fare una discussione su questo, però in qualche modo è alle nostre spalle, in certo senso. Noi viviamo in un'epoca diversamente moderna, la possiamo dire così, differentemente moderna. Poi questo moderno sarà in polvere, sarà un moderno liquido, sarà un moderno post qualcosa, sarà un moderno estenuato, ma insomma, certo, tutti abbiamo la percezione che in tanti campi dell'esperienza sociale, le forme, le strutture, gli stili del Novecento, di quello che è stato il cuore del moderno, si sono esauriti. Proprio avanti ieri, no? Addirittura alcuni commentatori hanno detto che anche le elezioni del nuovo segretario del PD sancirebbero a nome di questi segni di una fine, no? Di un pezzo estenuato di moderno che va a finire. Ma io credo più seriamente, al di là delle battute, credo che si possa ragionare di cose come la forma partito, l'idea che la legge sia tutta racchiusa in un libro, che sia questo il codice napoleonico, che dall'autorità promani esclusivamente la legge. Idee sul modo di fare la guerra, perfino, quando ormai sembra effettivamente un tempo molto passato, quella in cui le guerre si facevano con i soldati schierati alla von Clausewitz, eserciti che si combattono per un risultato. La guerra a cui siamo abituati oggi è una cosa assai strana, no? A pensarla con gli occhiali del moderno. La guerra tra un competitore onnipotente e una resistenza assolutamente sbilanciata, dove il risultato finale attiene molto ai modi con cui essa viene rappresentata, questa guerra, per esempio. In tante campi, è come se, e soprattutto il mondo sociale, quello che poi per noi è decisivo per gli storici, perché noi gli storici, questo mondo sociale dobbiamo raccontarlo sia nel presente fatto oscuro, quindi immaginiamo noi come facciamo a rappresentarlo nel passato se nel presente non lo comprendiamo. Perché c'era un tempo in cui il mondo sociale era chiaro, no? C'erano le tute blu e c'erano i colletti bianchi. E nel cuore del moderno tute blu e colletti bianchi rappresentavano insieme delle formazioni sociali e dei modi di raccontare il mondo. E le due cose coincidevano. Il racconto del mondo e la sua presentazione coincidevano in quello che noi oggi pensiamo essere un processo di naturalizzazione, ma che allora noi stessi non percepivamo in questi termini. Noi pensavamo che la classe operaia, per dirle una, era lì e che la sua presenza rassicurante desse norma al mondo, diciamo. solo dopo abbiamo capito che le cose sono più complicate e che il discorso sulla classe operaia e la sua stessa identità sono collegati in qualche maniera. E per oggi in cui nessun sociologo riesce più a capirci nulla e in cui il livello di difficoltà a comprendere come la gente si orienta, si mette insieme, vota, è tanto grande. Questo ha degli effetti anche sul nostro lavoro e noi dobbiamo studiarle queste cose nel passato. E non è vero che il mondo oggi è oscuro e nel passato è chiaro. Se il mondo oggi è oscuro, anche il passato è oscuro. Potremmo fare oggi la storia? Io un passato l'ho fatta un po', del modo con cui gli storici hanno utilizzato categorie del presente che credevano essere categorie di chiarezza, interpretando così il passato. Che cosa perché? Perché se tu costruisci delle visioni del mondo e le retroproietti naturalmente il risultato è che porti immagini della gente che tra di loro non sarebbe andata a prendere neanche il caffè insomma diciamo, li metti dentro delle scatole, li metti in delle scatole comuni, si chiamano essi puritani o giacobini, si chiamano borghesi o proletari. Ecco rispetto a tutto questo viviamo in un mondo assai più difficile, assai più complicato e le parole che io ho provato a raccontare in questo libro sono parole che vengono dal mondo moderno diciamo, ma sono transitate a noi in un modo che le ha piegate, le ha sgualcite diciamo così. Queste parole oggi fanno fatica a poter essere usate o devono essere usate con delle avvertenze per l'uso e questo libro vorrebbe anche essere delle avvertenze per l'uso e quali sono le avvertenze fondamentali, quelle di cui non possiamo fare a meno? Due fondamentalmente. La prima è quella che tra questo mondo rassicurante, questo mondo chiaro che in qualche momento nel novecento è apparso così e noi, noi oggi abbiamo molta più bisogno che nel passato di ragionare sui concetti che usiamo e invece di assumerli, cioè sapete tra gli storici c'è un'attitudine empirista molto forte e molto tradizionale, per cui dei propri concetti non si discute abbastanza, no? Cioè al massimo c'è un'attenzione ai concetti dell'osservato, dell'attore storico, dell'attore sociale, ma molto meno alle proprie categorie. E questa è la prima grande e importante differenza che c'è tra, si parva lì c'è naturalmente, non mi sto mica paragonando, però quando Coselle che scriveva i suoi testi, il suo dizionario dei concetti fondamentali. E in quel momento lui che ha teorizzato tra sette e ottocento la esistenza di un valico, come diceva, no? Di un satellite attraverso il quale sono fioriti, sono nati i concetti fondamentali del moderno. Lui parlava dei suoi concetti. La nostra posizione è diversa. Noi ereditiamo concetti che hanno subito quella torsione di cui vi dicevo, che hanno subito quell'inclinatura. E quindi abbiamo un problema in più. Dobbiamo provare non solo a raccontarli, e lui raccontandoli raccontava il mondo. Noi dobbiamo raccontarli e nello stesso tempo distanziarci da loro. O appunto mettere quelle avvertenze per l'uso di cui dicevamo. E la seconda cosa che io propongo come elemento di discussione delle avvertenze per l'uso è la rottura di quello che è stato per molto tempo l'idea scientista della storia come scienza. Questo, apro parentesi, non significa che non pensi che la storia debba avere uno statuto scientifico, solo che uno statuto scientifico è diverso da quello che adesso sto a dire. Chiudo parentesi. L'idea cioè che gli storici sono come dei scienziati con un camice, certo, non alla stessa maniera dei scienziati sociali, ma insomma il modello è quello e hanno un tavolo davanti, su questo tavolo ci sono degli insetti e loro e gli insetti sono, per così dire, inconmensurabili. Di più, che i loro discorsi, i discorsi sugli insetti, non sono in sostanza discorsi tra gli insetti. Ecco, la perdita di questa certezza, la perdita del camice potremmo chiamarla, la consapevolezza che noi siamo insetti come gli altri e produciamo discorsi che hanno effetti sulla sfera pubblica, secondo me ci deve dare un senso di maggiore responsabilità nel nostro mestiere, non di minore responsabilità. Forse potremmo perdere un pochettino di allure scientifico, ma ci guadagniamo molto di obbligo morale, diciamo così, di obbligo etico, perché i nostri discorsi camminano, camminano insieme ai discorsi dei nostri attori storici e ai nostri attori sociali. sono parte. Allora dice, ma loro in questa maniera noi non siamo più una disciplina scientifica. No, io credo che dobbiamo esserlo. Penso che non si possa mettere delle parole a caso su una lettera dei torriatti. Penso che non si possano, penso che il passato vada rispettato nei suoi termini. Penso che abbia ragione Eden White, potremmo continuare, abbia torto Eden White. No, no, abbia torto Eden White, naturalmente. Perché Eden White ha teorizzato quella cosa lì, no? Il rompere di questa storia nicciana, no? Di questa storia che non rispetta più. Io lo dico per questa sostanziale ragione. Noi abbiamo anche una funzione sociale da difendere. Nei nostri libri, sono libri di storia, il lettore si aspetta che venga raccontata una storia che vuole avvicinare la verità. Una verità, certo, non possiamo venderla a tanto al chilo, però una verità possibile. Soprattutto credo che noi abbiamo il compito di mantenere questo patto con lo suo lettore e di chiarire che quello che noi soprattutto diciamo sono dei no. Noi soprattutto diciamo quello che non si può dire, piuttosto che quello che si può dire. Diciamo quello che non è ammissibile, che non è provato, che è contraddetto dalle fonti, piuttosto che quello che si può dire. E io credo molto in questa, però questo va insieme, credo, alla consapevolezza che noi siamo immersi nel mondo della comunicazione e anche della comunicazione storica. Siamo lì, non siamo da un'altra parte. E quindi i nostri discorsi viaggiano insieme. Ci sono alcune parole nel libro che mettono insieme questi discorsi. Perdiamo un caso, una lezione sul Mediterraneo, in cui il discorso degli storici sul Mediterraneo viene messo in confronto non soltanto al discorso degli antropologi o al discorso, tra parentesi, il libro è pieno di scienziati sociali. Ma io penso che la risposta a questa curiosa questione è molto semplice. Gli storici del Novecento hanno dialogato con gli scienziati sociali e non si può fare discorso sulla storia del Novecento senza affrontare anche le scienze sociali. Chiudo la parentesi. Ma insomma, in quella lezione, in quel capitolo ho preso in considerazione il discorso degli antropologi, anche il discorso delle istituzioni europee sul Mediterraneo, quindi delle il discorso che viene prodotto dalle istituzioni, e poi anche discorsi più banali, discorsi che girano tra la gente, sull'immagine del Mediterraneo, perfino sulla dieta del Mediterraneo. Queste cose non sono incommensurabili, stanno tutti in un stesso calderone e contribuiscono a un ragionamento che si può fare, io provo da farlo, su che razza di concetti sono mai questi, questi concetti anfibbi che stanno nelle nostre aule universitarie e poi anche nelle stradi. a me pare che ci sia ragione di riflettere su questo, non di sdegnarsi, perché stiamo parlando del rapporto vitale della storia con i bisogni, le esigenze di campire che stanno al di fuori di queste aule. Quindi diciamo questo è uno dei punti. Poi certo ci sono nel libro, ma forse ho parlato troppo adesso, dei punti focali che addensano più di una lezione, più di un capitolo. Uno sicuramente, e qui forse abbiamo modo di parlarne, è quella riflessione, ma quello dipende, sapete poi, innanzitutto, queste parole sono nove, quelle nel libro, ma sarebbero potute essere sette o dodici, sarebbero potute essere queste o altre. Dipende dal mio itinerario di ricerca, non c'è una ragione per cui io ho fatto questa invece che altre. Se le avesse fatte Massimo Firpo sarebbero state altre le parole, non so bene. Ma come dire, c'è spazio per tutti. Cioè voglio dire, io stesso alcune parole mi sarebbe piaciuto scriverle e poi non le ho scritte. Per esempio, una parola, credo che su cui tutti dovremmo riflettere, per l'uso che ne facciamo, sia nei nostri libri, sia nel nostro modo di ragionare inconscio, diciamo così, oppure nel nostro modo di ragionare consapevole da cittadini e società civile. Credo che sarebbe una parola su cui riflettere, no? Perché ne facciamo un uso abbastanza inconsapevole. Pure una parola che ha una tradizione, eh? Marcello potrebbe dire delle cose su questo. Una tradizione bisecolare, diciamo, no? Diciamo quindi, diciamo, queste parole sono abbastanza casuali, in certo senso. Quello che vogliono proporre è, diciamo, alcuni nodi, no? Uno è sicuramente una riflessione sul popolare. Sono due lezioni in particolare, quella su cultura popolare e quella su violenza. che provano a ragionare su come gli storici hanno affrontato la questione del popolare e come lo hanno... e come questa riflessione degli storici è poi legata strettamente al modo con cui la nostra cultura ha affrontato il problema della definizione delle classi popolari, dei loro costumi, delle loro attitudini alla violenza. Io ho cercato di provare a mettere in evidenza come vi sia in questo nostro atteggiamento culturale un residuo romantico che rimane molto forte e come il nostro discorso sul popolare troppo spesso prescinde dalla costruzione del popolare, del bisogno che la società europea ha avuto a partire dal terzo settecento di costruirselo questo altro da sé, di forgiarlo questo altro da sé. E credo che questa questione qua, che poi è una questione su cui io continuo a lavorare, che il problema della rappresentazione del popolo, è uno dei punti su cui lì naturalmente ci sono delle affermazioni anche abbastanza forti, anche abbastanza polemiche, diciamo. E mi aspetto anche in questa discussione, anche su questo, ci sia occasione di parlarne. Un altro punto, forse, su cui il libro insiste, in qualche punto, è anche la questione dell'identità. E la questione di come questa parola, così difficile e anche complicata, ci obblighi a una serie di cautele, ma nel nostro tempo ci offre anche alcune opportunità. Io vedo, l'ho ci provato a raccontare sia nella parola l'identità che è in quella generazione. Vedo delle possibilità di uso, molto problematiche, di questo concetto. E in relazione, soprattutto, a un'altra parola che non è tematizzata, ma che è molto importante, poi è stata molto importante nel mio itinerario, che è quella di conflitto. Quindi come l'identità e il conflitto si possano studiare insieme, diciamo. Ecco, potrei continuare per andare a mettermi in luce quali sono i nuclei poi tematici che nelle varie parole vengano fuori. L'idea è che queste parole non vengano raccontate soltanto per raccontarvi la storia dei concetti, ma anche, come dicevo, di un loro possibile uso. E si intrecciano naturalmente poi con il mio itinerario di ricerca. Da questo punto di vista, anche se è un libro che può apparire violentamente decostruttivo, io, nella mia immaginazione, probabilmente non corrisponde alla realtà, non vorrebbe essere tale. Vorrebbe essere timidamente ricostruttivo, diciamo. Vorrebbe provare a indicare, con tutta l'imprecisione, delle piste, no? Per provare a fare nuova storia, non a rimanere chiusi in un problema metodologico. Insomma, vorrebbe essere un libro, ripeto, nella mia immaginazione, non so se il lettore lo vive così. La prima, quello che dicono i ragazzi molto spesso, leggendo la cosa, è stata «Sono sconcertato». Ecco, questo io l'ho considerato un grandissimo complimento, perché se produrre un senso di disorientamento è, secondo me, l'obiettivo primo di un libro così. Però subito dopo, non basta questo. Occorre provare a immaginare come si possa provare a ricostruire le trame di una storia possibile. Ecco, in questo senso c'è qua e là, forse meno apparente rispetto alla parte d'estruenz, no? Qualche tentativo di proporre, ma al di là del libro, poi il libro è un libro sperimentale, un po' strano, così che... Poi ci sarà il lavoro nostro, degli storici, vostro, degli storici di informazione, che deve dare le risposte. E' un lavoro che è essenzialmente poi ricostruttivo e non si tratta soltanto di come abbiamo fatto per molto tempo, no? Io ho condiviso con Barcello l'esperienza di questa rivista, che si chiama Storica, in cui abbiamo lungamente provato a fare questa operazione di sezione, di scavo, di messa in chiaro di quanto di anacronistico, di quanto di posticcio era stato depositato sui modi di fare storia. Credo che oggi venga il tempo di provare a farla, tenendo conto magari, ecco, che tenendo conto magari che ci stanno dei problemi, è che questo libro, in fondo, è un avviso ai naviganti, no? Un'avvertenza per come si può... Però sono consapevole che bisogna poi farlo, cioè bisogna provarci, insomma. Grazie, grazie. Grazie molte, Franco. Mi pare che ci hai presentato con molta lucidità le caratteristiche del tuo lavoro, non disgiunte appunto anche dagli aspetti personali, ma collegati, mi pare, con gli andamenti complessivi della società e anche del nostro mestiere. Io procederei appunto in termini alfabetici e quindi darei subito la parola per una prima reazione al professor Massimo Firpo. Grazie. Sono d'accordo con Franco sul fatto che questo libro, pur facendo naturalmente della decostruzione, non è affatto decostruzione. Si vede chiaramente, questo libro esprime una fiducia nella storia, una fiducia che una storia più consapevole dei limiti delle sue proprie categorie possa continuare a proporlo come una scienza sociale importante. Però questo, come premessa, devo dire che io ho letto con grande ammirazione questo libro, con grande ammirazione per l'intelligenza, la scienza, la grande, come dire, attenzione sul dibattito storiografico che Franco mette nei suoi studi, ma l'ho letta anche con qualche personale irritazione, un'irritazione però tutta quanta autobiografica che nasceva dalla mia vergogna, nel senso che io debbo riconoscere pubblicamente, faccio ammendomi, cospago il capodizieno, io faccio parte di quella tradizionale storiografia empirista, diciamo così, fondata sulla filologia, sull'ardigianato, di cui mi rendo perfettamente conto dei limiti, ma però io non posso neanche, come dire, venire meno alla mia generazione. Nel senso che sono stato anche allievo, racconterò questo piccolo anedito di un grande storico come Franco Venturi, il quale, quando era molto anziano, ormai non usciva più di casa, era malato, per la terza mi chiese se potevamo far fare quei libretti che allora si facevano, c'era l'intervista sul fascismo, queste cose, si poteva fare un'intervista sull'illuminismo, mi sembrava una bella idea, allora andai da lui, dico Franco, facciamo un questionario, delle domande, eccetera, poi tu parli, noi io registro, poi metto, poi rivedi i testi, eccetera, e lui mi guardò come se avessi detto, una follia pure, ma neanche per sogno, io tutto deluso, dico ma perché? Ma un'intervista sull'illuminismo, ma neanche per sogno, e perché? Eh perché bisogna definire i concetti, bisogna definire i concetti, è un esempio di grande fascino di questa, per capire qual è l'anima, spesso strutturalmente, e forse oggi del tutto inadeguatamente empirista dello storico. E quindi ho letto questo libro con ammirazione, ma anche con qualche distanza. Ora prima di tutto mi sembra doveroso nei confronti del pubblico dire non più di quattro parola di come è costruito questo libro, questo libro è costruito da una serie di capitoli dedicati a concetti della storia, tenuti insieme da una fosforosa e densa introduzione d'apertura. Questi concetti sono identità, generazioni, cultura popolare, violenza, potere, stato moderno, rivoluzioni, opinione pubblica, mediterranea. Dicevo giustamente, Franco, prima che se ne potrebbero aggiungere 5.000, butta oggi, patria, nazione, gruppo sociale, ceto, nobiltà, patriziato, riforma, popolo, antico regime, guerra, pace, libertà, rivolta, tutti i concetti che andrebbero benissimo. Quello che mi è molto interessante, e questo meritevole l'attenzione, è che nessuno di questi concetti si riferisce a una delle tradizionali categorie periodizzanti della storia. Vale a dire, è il lessico del tutto, non il lessico specifico di un momento storico, con l'eccezione del concetto di stato moderno, su quale Franco ha molto lavorato, che si riferisce a qualcosa di specifico nel tempo e nello spazio, anche se di uno spazio latamente europeo, di una stagione molto lunga della storia europea, non ci sono, e questa è una cosa che non può non sfuggire, anche soltanto sfoglia questo libro, non ci sono concetti come tardo antico, medioevo, rinascimento, barocco, illuminismo, romanticismo, le categorie, diciamo, della periodizzazione storica sono assenti. E questo dimostra come, mi pare, sottolinea come questo libro si preoccupa di fornire ai suoi lettori, che siano persone interessate di storia, storici di informazione, storici professionali, quello che una volta si chiamava l'utilizzo mental, come dire, l'attrezzatura mentale per orientarsi in mezzo, orientarsi con se stesso, avere nelle mani le redini delle categorie che sta utilizzando. Dice a un certo punto, nella sua introduzione, Franco dice che questi concetti, non sbaglio, non tanto questi concetti, ma la discussione che lui fa di questi concetti, vuole offrire al lettore una serie di torce che illuminano la realtà, strumenti per potersi orientare, che vale a dire che quando tu usi il concetto di violenza, il concetto di generazione, sai di che cosa stai parlando. E qui diciamo, questi capitoli sono, come dire, delle brillanti messe a punto storiografiche, che ci presentano, non in astratto, i problemi impliciti in un problema, ma ci presentano quel concetto nel concreto farsi della discussione storiografica, nelle discussioni a cui ha dato vita e nei dibattiti che ne sono scaturite. Diceva prima, avvertenze per l'uso. È un'ottima definizione. Soltanto mentre usava questa espressione a cui non aveva pensato, mi è venuto in mente, scusate se ha raccontato un altro stupido aneddoto, di un processo che è stato celebrato un paio di anni fa, di una relazione a tipiche avvertenze per l'uso, al bugiardino di una medicina, medicina che conosco che devo prendere. E, altrimenti, come tutte le medicine che aveva fatto il bugiardino, informava che potevi soffrire di tutto prendendo quella malattia, perché naturalmente bisogna salvaguardare la casa produttiva. Bene, non è stato pensato che, invece, fra le conseguenze di questa medicina, c'era anche la potenziale dipendenza dal gioco d'azzardo. E un signore si è preso un milione di euro da questa società di farmaci perché se ne ha messo a giocare al videopoker. Allora, questo è interessante, vale a dire, perché racconto questo stupido aneddoto, perché le avvertenze dell'uso non sono mai complete. La consapevolezza della spessore del dibattito che accompagna, il senso autocritico che serve a sorvegliare le nostre categorie storiche, è a sua volta determinato, come dire, dalle ideologie con le quali quel dibattito è stato affrontato, con le quali si è entrato in quel discorso, eccetera. Guardate, c'è un esempio che racconta magnificamente Franco, che è un esempio a tutti noto, vale a dire, penso al celeberrino Menocchio di Gisburg. Ora, tutti, molti di voi conosceranno questo libro, e ce lo racconta nel capitolo sulla cultura popolare, ce lo racconta Benigno stesso, vale a dire, Gisburg, che non è proprio un pivello della ricerca storica, è avvertitissimo dei problemi metodologici che la sua ricerca comporta, si pone il problema di come le affermazioni di quel mugnaio di Domenico Scandella ha detto Menocchio nel corso del suo processo, possono essere prese come espressioni del suo cosmo, del suo modo di vedere, è un problema molto difficile per Gisburg, perché dovrebbe presentarci un mondo popolare, una cultura popolare che per definizione si trasmette soltanto per via orale, e non è scritta, mentre invece il protagonista del libro è un mugnaio, non è un contadino, è uno che sa leggere e scrivere, e per cui è un problema piuttosto delicato di questo, e Gisburg è consapevolissimo e nella sua ricerca cerca appunto di decostruire questo problema per poter attingere finalmente al nucleo originale, popolare, contadino, orale della sua identità culturale. Ebbene, come poi fu scritto in celebre discussione di questo libro giustamente famoso da Dominic La Capra, che rovesciò il titolo del libro di Gisburg, Il cosmo di un mugnaio del Cinquecento, e lo presentò come The Cosmos of a Twentieth Century Historian, vedendo come quel libro in realtà rifletteva il cosmo di Carlo Gisburg, più ancora del cosmo di Domenico Menocchi. Vale a dire la consapevolezza, sempre utile perché in realtà non vorrei che, anzi ho segnalato prima quanto apprezzo l'elemento che mi si è pareso costruttivo del discorso di Benigno, non vorrei io essere quello che fa la parte del costruttivo, mi pare che sia, bisogna tuttavia essere avvertito che questo è un discorso che non finisce mai. Vale a dire che quando uno acquisisce, si legge queste cose o altre, che altri possono essere, le discussioni, e si matura la consapevolezza della complessività dell'uso di questi concetti, non è che questo lo salva, perché come dire, l'insidia dell'ideologico, l'insidia del parziale, l'insidia del riflesso è sempre costantemente presente. E questo è, come dire, è una delle fecondità del discorso della storia. Siamo a volte consapevoli delle ideologie che motivano il discorso degli altri, siamo a volte consapevoli, è un po' più difficile certe volte, delle ideologie che motivano il nostro, non siamo mai consapevoli di tutte. È vero che dobbiamo essere avvertiti su tutti, è vero che lo storico trova soltanto nelle fonti dei documenti quello che cerca, ma a volte non trova, non vede quello che ha davanti grande come una casa. nonostante la... Questo è un tema... Non c'è niente di rassicurante, ecco, voglio dire, nel discorso di Benigni, perché la questione è sempre aperta e questo ripropone un poco, come dire, il senso dell'empirismo, di queste cose. Ora, questi saggi sono saggi, appunto, brillanti, rassegne storiche su problemi, messi a punto, discussioni, eccetera. Quello che le tiene insieme e dà il senso di un... di un potenziale dizionario storico, molto diversi da quelli che ci sono, perché i dizionari storici spesso sono delle mini enciclopedie, mentre questo è un tentativo di dar vita a un lessico storiografico, e l'ho detto anche nel titolo, mi pare, eccetera. Ora, naturalmente, Benigno si pone i problemi che una storiografia recente ha affrontato e deve affrontare, vale a dire, la dirompente dimensione di scetticismo che si è precipitata sulla storia, per esempio il linguistic turn, in quale, come dire, sappiamo tutti poi come sono andate le cose. Le argomentazioni di Eden White non sono convincenti, ma non sono tutt'altro che stupide, naturalmente. E quando Momigliano, in un celebre articolo, diceva, sì, va bene, tutto vero, però alla fin fine le storie raccontate dagli storici devono essere storie vere, mette il dito nella piaga, ma non è che cura la ferita, diciamo questo, perché il discorso tende ad essere, da questo punto di vista, un po' tautologico. E questo è uno, ma non è tanto questo il punto, perché questo, diciamo, è stato un po' già digerito, forse, dalla discussione fra gli storici, i punti su quali insiste soprattutto Franco, mi pare, sono altri. E cioè, quella che lui poco fa ha definito come la nuova costellazione della storia mediatica ed emotiva, che riflette molti problemi, non soltanto l'aspetto propriamente mediatico, la storia dei mass media, la storia della comunicazione, la storia dei Borgia, ma riflette un'altra questione che è più rilevante, che è il problema della storia memoria, del problema, del testimone unico o non unico, di quello che dice, io c'ero, io ho visto, come si chiamava quello, Rashomon, vi ricordate quel film bellissimo che raccontava lo stesso episodio, visto da più parti? Ciascuno ha visto le cose, l'ha visto, io ho visto come le cose sono andate, e questa mi dà una certezza interiore ed emotiva indistruttibile. E questo si collega quindi a questo concetto della certezza, che è diverso dal concetto della verità, e mette in piedi, come dire, un relativismo che diventa tanto più aggressivo, quanto più spesso è motivato da esplicite o implicite motivazioni brutalmente politiche. E abbiamo assistito a questo fenomeno in questi anni in maniera assolutamente marginale, enorme, di come la memoria impone la sua prepotenza sulla ricerca storica, e come la verità tende a, nella misura in cui tende a diventare una verità soggettiva, si carica di valenze emotive che la rendono ancora più forte, eccetera. E poi questo discorso sul quale, che per me fa proprio problema, devo dire, sul quale Benigno insiste lungamente, con pagine anche convincenti, diciamo così, sul venir meno del paradigma del moderno, sul venir meno di un processo storico, se volete anche teologicamente visto, come centrato intorno alla rivoluzione francese, ai miti del progresso, della libertà, eccetera, eccetera. E questo, ci spiega Benigno, lo dicevo anche prima, ruota intorno alla crisi del Novecento, e ruota intorno, come dire, alla Shoah, come evento ineffabile, diciamo, storicamente non comprensibile, non spiegabile come elemento che pone, usando la stessa metafora di Coselle, che pone un crinale storico nuovo. C'è un prima e un dopo, un al di qua e un al di qua. E lo dico, guardate, lo dico, vi prego di credere con somma prudenza, non voglio fare nessuna affermazione provocatoria, sia ben chiaro, però non possiamo non essere consapevoli del fatto che questo crinale storico, la Shoah come discriminante, fa una storia del prima e del poi, è a sua volta una costruzione dei naturi ideologici, che, come dire, non può essere accettata passivamente. È un fatto, naturalmente merita discutere, nessuno nega ovviamente che quell'evento ha cambiato il corso della storia, ma è da lì che nasce il fatto che noi viviamo in una stagione postmoderna. Ho imparato dal libro di Benigno queste definizioni, la modernità liquida e la modernità in polvo, è stupendo, però ce ne potrebbero ripetare anche delle altre città. Ma, insomma, quando i moderni, vale a dire gli umanisti, inventarono la storia moderna, non dissero mica che loro erano i post medievali, scusate la battuta, dissero quello che loro erano, cioè erano moderni. Ora, questo, fino a che punto, questa costruzione del postmoderno, questa perenne cultura della crisi, e questo perenne chiacchiericcio sulla perdita dell'identità, non è a sua volta una costruzione fortemente ideologica. Qui possiamo parlare di una cultura altra, rispetto alla cultura del moderno, cioè quella fondata sui miti per calità ideologici, finché volete, per calità ideologica, la rivoluzione francese, ma quando avremo, o avranno, qualche cosa da dire al posto, perché invece che al posto, abbiamo al posto, cioè niente. questo è un tema che richiede qualche riflessione, perché se no, cadiamo nel dare per scontato che il postmoderno sia qualche cosa. Io non dico che non ci sia, però finché non lo sia riempito di qualche contenuto, è difficile capire di che cosa stiamo parlando. Ora, esistono i temi, tutti i temi sollevati da Franco, mi paiono temi legittimi, ma c'è un punto che mi ha un po' colpito, e cioè, giustamente, sottolinea come le categorie, per esempio, penso a quelle belle pagine sulla generazione, su come la generazione non è un dato di fatto, ma è una costruzione ideologica posteriore di coloro che hanno ritenuto di far parte di una generazione. Vale a dire, la generazione non è un dato oggettivo, ma potremmo riassumere l'espressione, la generazione, la generazione siamo noi, no? Si carica quindi di tutte le valenze ideologiche, di un ruolo quasi di funzione e missione storica. Allora, il tema che voglio sollevare, se queste categorie sono così precarie, ne ho così, bisogna usarle con tutta la consapevolezza della loro carica ideologica, della loro flessibilità, della loro varianza nel tempo, eccetera, mi ha colpito che il discorso di Franco restasse largamente prigioniero nella storia dell'Occidente. Perché qualche cosa si potrebbe pur dire sul tema del relativismo delle categorie storiche, è vero, lo diceva poco prima Franco, che naturalmente quando noi usiamo il concetto di borghesia, la borghesia fa la rivoluzione francese, la borghesia fa la rivoluzione puritana, la borghesia fa la rivoluzione americana, la borghesia fa la rivoluzione industriale, è sempre lì, la borghesia non si capisce che cosa sia, che vedo qualche differenza, io francamente, fra Oliver Crammel e Gianni Agnelli, insomma, c'è ancora qualche, quindi è del tutto giusto questo, ma come dire, la varianza di queste categorie, la flessibilità di queste categorie, mi pare dilatarsi all'infinito, quando noi ci poniamo il problema della loro fruibilità in una potenziale globalistica, non so se mi spiego, cioè il concetto di Stato, che è un concetto come ci spiega Franco, così flessibile, mobile nel corso del tempo, come sia stato il soggetto di una costruzione identitaria, della costruzione dei grandi stati ottocenteschi, eccetera, eccetera, tutto bene questo, ma ha senso parlare di Stato quando parliamo della Cina, dei Ming? E se noi prendiamo, ha senso parlare di popolo? Cosa vuol dire nobiltà? quando parliamo i mandarini non sono una nobiltà, non so, io non so niente della storia cinesi, ma la flessibilità di queste categorie, la loro valenza non soltanto ideologica, ma oggettivamente differenziale, si impone con una virulenza che impone a sua volta una ridefinizione alle nostre categorie più complesse ancora di quella che Franco ci suggerisce. Questo mi pare un tema, voglio dire, non penso che dovesse essere affrontato nel libro, ma lo presento soltanto come un elemento di riflessione che questo libro scattori un libro, ecco questo concludo, che però su questa strada si muove, questo ci insegna, questo mi pare il suo elemento costruttivo, per dare adesso una definizione, ci insegna il senso della distanza, quello, qui ha parlato anche Carlo Gisbert, di una distanza di cui bisogna sempre misurare, poi, ho detto molto male, abbiamo le stanze di cui bisogna essere consapevoli, misurarla è altro discorso, misurarla è più difficile, vedere, mettere le lenti giusto è ancora un altro discorso, ma almeno avere la consapevolezza che senza lenti non vediamo, e quindi mi pare un libro molto interessante, una cosa sola la devo dire imperdonabile, imperdonabile, caro Franco, non avrei mai pensato che nel libro di uno storico ci fosse l'espressione logische Raum, questo mi pare davvero un tradimento filosofico degli storici, grazie comunque. Grazie Massimo, do subito la parola ad Andrea Giardina per qualche altra riflessione. quando credo circa un anno e mezzo fa Franco Benigno mi ha parlato di questo libro che o stava finendo di scrivere o stava quasi per pubblicare e mi ha detto grossomodo qual era l'argomento io ho pensato ho pensato quattro cose insomma che fosse certamente una una bella idea che fosse anche un'impresa molto ardua e coraggiosa avendo letto di lui saggi e almeno un paio di libri immaginavo anche che fosse un libro elegante ben scritto questo devo dire un libro che si fa apprezzare davvero anche per la altissima qualità della scrittura e poi ho pensato che l'autore scrivesse sì un libro di riflessione di storia ma al tempo stesso un libro aperto la linguistica e la grottologia questa conversazione mi faceva pensare appunto l'immagine della riflessione sulle parole devo dire avendo letto il libro che mi sono reso conto che i primi tre pensieri cioè che fosse una bella idea che fosse un'impresa coraggiosa e che fosse un libro ben scritto erano giusti l'ultima era sbagliata naturalmente perché qui non si parla di storie di parole intese come stratificazione di significati ma di storie di concetti concepiti in modo tale questa storia che la profettiva storiografica culmina poi in orientamenti per il presente e quindi in analisi di storia contemporanea considerato il tempo a disposizione che insomma secondo i precetti del nostro presidente immaginiamo appunto devono essere rapidi per dai tempi ad eventuali discussioni con il pubblico e anche eventualmente tra noi io mi concentrerò principalmente su un capitolo Benigno è molto attento a non disporre le parole da lui individuate in gerarchie però non c'è dubbio a mio avviso che alcune di queste parole più di altre svolgono un ruolo preeminente preeminente in che senso non che siano più importanti di altre ma che nella strategia e nell'organizzazione del volume hanno un ruolo cardine maggiore si connettono più facilmente sono svincoli di tutte le altre parole insomma hanno una capacità di struttura una forza di strutturazione del libro maggiore ma questa naturalmente è una riflessione tutto personale non è detto che l'autore si riconosca non è detto che l'autore qualora non si riconosca abbia più ragione di me naturalmente perché come sappiamo in fondo è il pubblico a decidere quello che ritiene di percepire uno dei pregi maggiori di questo libro e questo lo dico per chi non l'abbia ancora letto sta in un avvertimento che vorrei fare appunto a chi ancora non l'avesse letto a non pensare che si tratti di capitoli sparsi su singole parole perché certo il libro è questo però è un libro che ha un racconto è un libro unitario che ha un racconto e questa è la cosa forse l'operazione una delle cose più felici di questo di questo tentativo così audace e il fatto di aver si individuato alcune categorie tante altre se ne potevano scegliere dipende naturalmente dai gusti ma al tempo stesso è stato capace proprio di costruire un racconto un racconto attraverso queste parole e non a caso lui dato forse per scontato nella sua presentazione ha usato ho cercato di raccontare quando ha detto ho usato questa espressione mi ha colpito perché corrisponde esattamente alla verità poiché appunto a proposito di identità che è una delle parole individuate è evidente che in quanto storico del mondo antico io sono il più il meno inserito nel gruppo diciamo più più marginale diciamo il maschio certo non beta ma gamma delta non so che cosa di questa tribù insomma non vorrei proprio essere l'ultimo perché davvero insomma è una triste sorte ma insomma siamo in una categoria molto lontana dal maschio dominante e io vorrei vorrei proprio come omaggio all'autore e al al suo libro per un verso fare rivolgere delle osservazioni che sono poi delle domande a cui spero lui voglia voglia rispondere evidentemente trovandone forse di un qualche interesse domande che riguardano proprio i problemi generali problematiche generali di alcuni temi trattati in questo libro per altro verso da antichista cercare di segnalare come la lettura di questo libro che è un libro tutto sommato che riguarda la storia moderna e la storia contemporanea possa essere di stimolo e di interesse per uno storico del mondo antico che si occupa di mondi molto molto lontani poiché io credo che per noi storici dell'antichità il rapporto con gli storici di altre epoche sia assolutamente fondamentale non meno importante gerarchicamente di quanto lo sia il rapporto con i filologi con gli archeologi con gli papirologi e gli epigrafisti e mi sento sempre grato quando ho l'opportunità di imparare qualcosa dagli storici di altre epoche e quindi sono grato a questo libro che certamente mi ha arricchito non solo di bibliografia che ignoravo questo era ovvio ma anche di riflessioni e di suggestioni che metterò a frutto facendo bella figura con i miei colleghi e ovviamente però citando la fonte perché questo mi sembra mi sembra giusto io vorrei cominciare proprio dalla riflessione di Benigno su rivoluzione anzi fermarmi all'interno di questo tema rivoluzione perché credo che non so ognuno può cercare su inclinazione è un tema che mi interessa molto credo che consenta di allargare un po' la prospettiva di Benigno e di stimolare appunto riflessioni nel dialogo tra storia antica storia moderna storia contemporanea a pagina 105 io leggo ancora nessuno l'ha fatto ma insomma voglio leggere per dare anche per far capire al pubblico di quale qualità di scrittura si tratti come comincia questo capitolo gettando uno sguardo verso il passato si scorgono nel panorama degli avvenimenti trascorsi alcuni eventi prominenti che si stagliano sugli altri per la loro grandiosità sono vicende che hanno fondato compagini politiche o sociali religiose o nazionali e il cui racconto ha poi continuato ad accompagnare nel tempo la memoria di queste comunità si tratta dunque di grandi narrazioni di fatti ritenuti decisivi originari densi di gesta memorabili e ricchi di significati popolati di figure eroiche e tragiche animati da simboli potenti sono epopee storie mitizzate che si pongono come l'inizio di tutto o almeno come l'inizio di una nuova epoca eventi matrici dunque che si situano esattamente dove scaturisce la storia di un popolo e spesso di uno stato sono le rivoluzioni ricordavo questo incipit non solo per capire la qualità della scrittura di Benigno per chi non l'avesse mai letto ma anche perché in questo incipit ci sono molte delle problematiche che come antichista mi sollecitano Benigno molto attento nel collocare la categoria di rivoluzione entro uno spazio sostanzialmente contemporaneistico da storia moderna avanzata e storia contemporanea e questo è quello che deve fare anche un antichista attento all'uso delle parole credo che nessun antichista diciamo che abbia attenzione per il lessico farebbe mai della categoria di rivoluzione un uso disinvolto o perlomeno dovrebbe tendere a non usarla naturalmente a non usarla in senso pieno rivoluzione dunque estranea al mondo antico così come è stata come estranea dovrebbe essere estranea ad altre epoche precedenti quelle trattate dall'autore però devo dire che una di quelle parole che sollecitano anche l'antichista meno attualizzante che esista devo dire io scusate se parlo di me ma tanto per giustificare la mia prospettiva io ho combattuto tutta la vita contro le attualizzazioni dell'antico quindi se questa volta devo svolgere un ruolo opposto lo faccio perché è proprio obbligato diciamo non dico controvoglia ma obbligato perché rivoluzione è una di quelle categorie che sono state siorate nell'antichità che in senso pieno sono assenti ma dire che siano del tutto assenti sarebbe improprio faccio un esempio celebre che poi è stato evocato nel 61 dal mio maestro Santo Mazzarino che riguarda la Persia tardoantica è un saggio famoso del 61 si può parlare di rivoluzione sociale alla fine del mondo antico e Mazzarino dice di sì e colloca questa esperienza nella rivoluzionaria nella Persia dell'epoca cioè nella Persia del VI secolo il moderno insomma Iran e coglie il concetto di rivoluzione nell'ispirazione del cosiddetto movimento comunista Mazzadakita quindi siamo in un'ispirazione religiosa diciamo così della rivoluzione ma non solo perché il Mazzadakismo predicava che tutti gli uomini dovevano essere uguali e dichiarava ingiusto che un individuo avesse più beni o più donne di un altro quindi qui c'era una precisa idea dell'abolizione di differenze di proprietà e di ceto e questa ideologia comunista era coscientemente collegata con l'esclusione delle proprietà personali dell'eredità e della famiglia si tratta certamente di un caso eccezionale però l'ho ricordato anche perché in questo rapporto tra l'antica Persia e l'oderno Iran c'è un problema storiografico che va ben oltre quello che sto dicendo ma che si connette al problema della rivoluzione e delle rivoluzioni contemporanee perché nell'astrografia tardo-antichistica contemporanea ricordava il tardo-antico poco fa Massimo Firpo nell'astrografia tardo-antichistica contemporanea esiste quella che io ho definito in un'altra occasione una retorica della modernità uno strano episodio di traslazione della modernità antica dal mondo classico al mondo tardo-antico in cui i fondamentalismi hanno un'importanza decisiva cioè in sostanza l'analogia tra tardo-antichità e modernità viene da alcuni colleghi impostata nella constatazione che i fondamentalismi contemporanei dopo la rivoluzione comunista del 79 i fondamentalismi contemporanei consentono allo storico dell'antichità di comprendere i fondamentalismi rivoluzionari della tardo-antichità e quindi di comprendere la modernità del tardo-antico e quindi di comprendere la preminenza dei processi storico-religiosi rispetto ai processi storico-istituzionali quindi in realtà la la gerarchia dichiarata della che vede come diciamo così all'apice la storia della cultura intesa in senso lato quindi anche la storia della religione e come storia residuale la storia delle istituzioni e questo è un tema che Benigno affronta in molti punti diciamo non certamente nel modo schematico in cui lo sto dicendo io ma lo affronta in molte parti di questo libro c'è molto da fare sul lessico antico della rivoluzione Benigno ricorda giustamente l'origine astronomica di questo concetto è la connessione tra l'origine astronomica e l'analisi politica attraverso la teoria dei cicli non c'è dubbio però c'è molto da fare per esempio per quanto riguarda altre parole della del lessico della trasformazione politica e sociale tutti ripetiamo sempre che gli antichi erano ostili all'eres 9 coltivavano il mosso maiorum su questo non c'è dubbio però però adesso qui non voglio aprire il discorso su questo punto però c'è tutto un discorso da fare un'analisi ecco un discorso sulle parole per esempio per il lessico il campo semantico della riforma nel mondo antico nella cultura antica dove riforma che per noi vuol dire è come dire un cambiamento una trasformazione attenuata contenuta in sostanza nel latino ha un significato completamente opposto riforma vuol dire ridare forma riformare vuol dire ridare forma a una cosa che ha perduto la sua forma quindi è sì una trasformazione diciamo così progressista potremmo dire ma che guarda un ritorno al passato quindi diciamo così il problema estremamente complicato naturalmente quando mi rendo conto di come sia possa essere azzardato dire che gli antichi hanno assiorato la categoria di rivoluzione se addirittura la riforma ha quel significato però c'è altro non c'è soltanto l'Iran così che l'esperienza periferica tutto sommato vista da occidente e tutto sommato poco significativa perché non si è impiantata ma c'è qualcosa di ben più importante e mi riferisco per esempio all'esperienza costantiniana ora Costantino è stato definito sempre dal mio maestro il più grande rivoluzionario che sia mai esistito nella storia universale ogni tanto esagerava diciamo così però coglie certamente un tratto della politica di Costantino siccome tra l'altro siamo ancora in un anno costantiniano perché è il bimillenario del 313 e forse forse vale la pena di ricordare come effettivamente con Costantino si manifesti una prospettiva rivoluzionaria non di carattere ciclico o retroversa o vuol dire volta come facevano gli imperatori precedenti quando dicevano appunto facevano dire ad altri che con loro avvento si realizzava la felicità dei tempi guardando sempre alla mitica età del loro ma una prospettiva nuova una felicità con prospettiva teleologica volta addirittura all'eternità e quindi una rivoluzione diciamo così che guarda a un futuro illimitato se non la fine dei tempi questa si ha con Costantino questo è molto chiaro in un discorso costantiniano riferito da Eusebio di Cesarea quando Costantino appunto qualifica la sua epoca in questi termini questa parlando appunto del cambiamento epocale coinciso col suo avvento al potere e della divinità che l'ha protetto questa deve essere necessariamente ritenuta come la divinità l'unica che realmente esiste che detenga un potere che duri in eterno questo potere che dura della divinità che dura in eterno è un potere rivelato da un avvento al trono di un imperatore quindi che con la sua scesa al trono palesa l'esistenza di questa divinità il potere di questa divinità in una prospettiva non più chiusa limitata circoscritta all'esperienza di governo di un sovrano ma con proiezione appunto illimitata anche questa è una una rivoluzione Benigno si sofferma molto sul revisionismo sul discorso in cui i revisionismi sono spesso presenti e molto felice nella sua definizione a pagina 190 dove dice d'altra parte la critica revisionista si è rivelata molto più efficiente a spiegarsi cosa le rivoluzioni non furono né poterono essere di quanto sia stata capace a dirci cosa effettivamente furono e come oggi possono essere ripensate questo è un punto chiave che vale per il revisionismo in riferimento all'evoluzione ma vale per tanti altri revisionismi a pagina naturalmente Benigno poi ha ai suoi antidoti ed è il suo antidoto principale è il ricorso al al concetto di identità per cui questo capitolo mi sembra molto connesso con il capitolo riguardante l'identità dice l'insistenza sul modo con cui non solo gli attori politici ma anche la gente comune specie nei quartieri popolari ha vissuto l'esperienza rivoluzionaria non è solo un tentativo di sfuggire dello schematismo ideologico di tanta serigografia e di rivedere perciò quella contro teoreologia revisionista ispirata da François Furet che obbligava a leggere Robespierre chiamando inevitabilmente alla mente le immagini di Stali quando non più recentemente quella di Osama Bin Laden però le identità e se non so forse non l'ho letto male le identità a cui parla di cui si riferisce di solito Franco sono identità collettive identità di gruppo poiché è stato evocato prima il problema dei fiumi e dei pesci ho l'impressione che i pesci in questo caso siano come si chiamano i pesci quando sono in gruppo non sono una mandria non sono un greggio un branco un branco di pesci in sostanza che cosa ne è della biografia nella tua nella tua prospettiva cioè in sostanza il fattore umano inteso come fattore insomma il fattore biografico ecco gli eroi cui tu spesso fai riferimento Momigliano aveva tante belle frasi a effetto che non intanto inventava ne aveva avuto anche questa dice quando io ero giovane gli storici scrivevano biografie i gentiluomini gli storici scrivevano storia e gli gentiluomini scrivevano biografie ora il gusto naturalmente è cambiato però io credo che questo rapporto questo antidoto che tu hai individuato ai revisionismi insomma questo recupero del concetto di identità possa valere certamente per l'identità di gruppo ma lascia aperto il problema del del fattore umano inteso come fattore individuale ecco naturalmente nessuno di noi pensa che ci siano la storia sia una susseguirsi di uomini provvedenziali e cose di questo genere però non debbiamente il problema esiste credo che nel tuo libro sia rimasto un po' in ombra mi piacerebbe sapere che cosa tu pensi su questo punto che data anche l'insistenza con cui usi come strumento reattivo il concetto di identità questo potrebbe essere utile appunto una riflessione su questo e da ultimo da ultimo una riflessione che riguarda che riguarda la problematica della rivoluzione e la confusione ecco lessicale quindi la confusione dei concetti bisogna avvertenze per l'uso come usare questo concetto più spesso sia a questo proposito sia ad altri propositi Benigno ci rappresenta una sorta di babele concettuale per cui si usano le stesse parole le stesse concetti in modo diverso o si usano delle parole in modo inconsapevole e su questo vorrei vorrei chiudere perché questo è un problema su cui mi è capitato di riflettere ad altro proposito ad altro riguardo e io credo che il problema della rivoluzione e della confusione che si è creata intorno al concetto di rivoluzione tra usi inconsapevoli usi tradizionalisti e usi revisionistici sia parte di un problema più generale che è quello del periodizzamento accennava Massimo Firpo a questo problema dicendo qui non si parla di intardo antico medioevo età moderna e così via però il problema del periodizzamento è sempre sullo sfondo e per quanto riguarda la rivoluzione è molto chiaro il problema è mi avviso la diffusione non soltanto nell'ambito della storia moderna e contemporanea ma la diffusione che da grossomodo dagli anni settanta in poi ha man mano permeato tutti i settori della ricerca storica dall'antichità in poi ed è l'aggressività del continuismo questo ha riguardato non tanto in generale il problema della rivoluzione quanto il concetto di crisi rifiutato soprattutto dalla storiografia perlomeno che spesso in molti campi è egemone c'è quella di anglosassone sostanzialmente respinto perché il concetto ritenuto marxista e quindi da far naufragare insieme con tutti i retaggi della storiografia di sfidazione marxista o comunque che ha avuto contatti con il marxismo a parte il fatto che naturalmente diciamo sarebbe interessante capire cosa sia uno storico marxista ma insomma a parte questo essendo sospetta di marxismo questa categoria viene respinta allora accade che la crisi del terzo secolo dopo cristo si è scomparsa per alcuni non è mai esistita cioè maestri storici degli anni sessanta che vi posso assicurare non erano tutt'altro che marxisti non so per dire Andrea Salfeldi scappato dall'Ungheria perché anticomunista insomma ha scritto un libro sulla crisi del terzo secolo se gli dicessero guarda non lo devi fare è proprio politicamente scorretto insomma credo resterebbe sconcertato insomma la crisi del terzo secolo non è più esistita la caduta dell'impero romano è un episodio residuale perché sembra un fatto istituzionale a scarsa rilevanza perché c'è comunque una storia culturale che corre che continua che si mantiene un fiume ininterrotto quindi la storia sincopata delle istituzioni che cadono che muovono che si trasformano tutto sommato è una storia di minore interesse rispetto alla storia religiosa della cultura e quindi l'impero romano da appunto catastrofe paradigmatica è diventato un epifenomeno l'avvento dell'Islam non è più considerato da alcuni storici una cesura significativa perché si parla di un continuismo la continuità dell'ellenismo tardo-antico nei paesi islamici ben oltre l'avvento dell'Islam il dominio longobardo che tutti abbiamo considerato una frattura insomma di civiltà insomma una rottura comunque molto forte almeno nella storia del nostro paese è considerato anch'essa nella stessa prospettiva un fenomeno scarsamente rilevante da reggersi più nel senso della continuità che della discontinuità la crisi del 300 nella crisi del 1000 la crisi della pezza nera insomma la grande crisi del 300 la crisi tardo-medievale da alcuni anche ha subito lo stesso trattamento questo poi è accaduto per la rivoluzione francese allora mi domando se il problema non sia un problema che riguardi unicamente rivoluzione e più in generale il problema della crisi e il problema del successo insomma delle operazioni appunto di stampo continuistico che abbracciano tutte le discipline in sostanza non la cultura di storici moderni e contemporanei ma la cultura storia contemporanea to cure e questo è un problema insomma naturalmente che potrebbe stimolare un dibattito un po' più attivo tra antichisti e medievisti e storici di altre epoche successive ma questo solo per insomma chiedere una risposta a Franco di testimonargli tutta la gratitudine per avermi spinto con il suo libro occuparmi di tante cose a conoscere autori e problemi che non conoscevo grazie grazie Andrea tocca a me cercherò di essere molto molto breve cominciando con l'osservare che anch'io penso che il libro di cui parliamo stasera sia un libro costruttivo e mi pare che nella introduzione sia indicato chiaramente l'intenzione positiva il contributo la proposta positiva che questo libro vuole dare in sintesi nella premessa si osserva che dopo la fine della giornomonia della storiografia economico-sociale quel tipo di storiografia che aveva nelle annale il suo punto di riferimento è cominciata anche in seguito alla svolta linguistica a cui faceva riferimento massimo un nuovo tipo di storiografia una storiografia in primo luogo basata sulla analisi delle pratiche discorsive come via attraverso la quale attingere al funzionamento della società ma proprio l'affermarsi di questo nuovo tipo di storiografia appunto quella incentrata sulle pratiche discorsive si è scontrata con la crisi della storia ecco il libro mi pare vuole essere una risposta a questo problema cioè al problema delle difficoltà della storiografia discorsiva chiamiamola così in seguito alla crisi della storia mi pare che la tesi di fondo sia questo tipo di storiografia è possibile nonostante la crisi della storia nella misura in cui l'ermeneuta l'interprete lo storico si fa più consapevole dei suoi strumenti concettuali quindi del modo con cui mette in opera concretamente l'analisi delle pratiche discorsive questo mi pare appunto l'intenzione fondamentale del libro cioè quello di dare un apporto positivo al fare storia mi pare anche che il nucleo fondamentale attorno a cui ruota questa proposta è per l'appunto la questione crisi della storia già appunto Andrea notava che il problema della parola crisi è un problema ma insomma io credo che possiamo cercare di analizzare il modo in cui soprattutto nella premessa viene esaminato viene esaminata la questione della crisi della storia e appunto cercare di vedere se questa nozione se questa concezione è tale per l'appunto da scardinare il modo di fare storiografia dopo la fine dell'egemonia della storiografia economico-sociale e se o se invece appunto ed è questa un po' la domanda che io con cui vorrei concludere occorre cercare di meglio capire la crisi della storia la cosiddetta tra virgolette ovviamente per vedere effettivamente il modo in cui questo fenomeno incide sulla prassi storiografica allora la crisi della storia che ci presenta il libro mi pare che discenda dal fatto che la società contemporanea la società attuale ha una forte domanda di storia ha un bisogno di storia ed ha risposte a questo tipo di domanda che sono risposte che non corrispondono al modo tradizionale di fare storia e neanche allo statuto scientifico della storia mi pare che Benigno riconduca questo fenomeno questo aspetto ad alcuni caratteri che sono tipici appunto della risposta al bisogno di storia del mondo contemporaneo che vorrei appunto brevemente ripercorrere perché su uno di questi mi sembra che ci sia una domanda da porsi il primo carattere che mi pare emergere per definire questa crisi della storia sta nel fatto che nel nostro mondo la ricostruzione del passato non è prevalentemente affidata agli storici di professione lo diceva del resto anche Franco nella sua introduzione chi propone il senso comune del passato nel nostro mondo sono documentaristi registi attori giornalisti cioè persone il cui obiettivo il cui intento non è quello di cercare di avvicinarsi il più possibile a ciò che è effettivamente accaduto cioè ciò che consideriamo normalmente operazione storiografica ma è altro voi tutti appunto conoscete il modo in cui spettacoli teatrali sul Vaionto sul caso Moro hanno definito la storia di quel che è successo nel Vaionto o che è successo sul caso Moro con un'introduzione esplicita in cui si diceva che i nuovi documenti emersi su questa faccenda non interessavano minimamente a mutare la ricostruzione la ricostruzione che era proposta veniva proposta con lo scopo non appunto alla luce dei documenti di capire meglio ciò che veniva proposto come ricostruzione storica ma era altro che cosa si trattava di fare si trattava di aumentare il numero di ascoltatori il numero di fruitori di aumentare i profitti tendenzialmente per quel certo tipo di spettacolo oppure si trattava di emozionare il pubblico di condurre il pubblico appunto è una parola che è venuta fuori già in diverse altre occasioni di condurre il pubblico non tanto a capire ciò che era successo ma a sentire determinate vicende determinati fattori nella storia ad esempio nella storia del nostro paese insomma ecco mi pare che il primo aspetto della crisi della storia sia la sua riduzione a spettacolo cioè naturalmente non è così perché lo diceva non è tutto così perlomeno perché lo diceva molto bene prima Franco continua ad esistere la storia la storia accademica la storia universitaria però largamente la storia ciò che fa senso storico nella nostra società è lo spettacolo della storia non è appunto la ricostruzione del passato e questo appunto è un primo mi pare aspetto significativo della crisi della storia il secondo aspetto che mi pare emerga dalla introduzione del libro è un aspetto su cui abbiamo già discusso ed è stato già proposto riguarda il fatto che è scomparso quel paradigma che legava il fare storia ad un orizzonte di attesa legata all'idea del progresso il passato appunto rappresentava una tappa verso un futuro migliore si guardava al passato in quanto momento che conduceva ad un futuro migliore era un futuro che poteva essere declinato in vari modi ed in modi diversi ci potevano essere contraddizioni resistenze lentezze vischiosità e così via ma comunque il processo storico andava verso qualche cosa che era migliore di ciò che veniva presentato e di ciò che si viveva ecco appunto le tragedie che hanno accompagnato la storia del novecento hanno inferto un colpo a questa visione dell'articolazione tra il passato e il futuro in fondo il fare storia è un'articolazione tra passato e futuro hanno appunto rotto in qualche modo questo tipo di articolazione ed hanno riproposto un passato che anziché essere uno svolgimento verso una meta e in realtà un passato che non passa questo appunto il presentismo questo eterno presente caratterizzato da un passato che non passa che si è sostituito appunto al tablode progred dell'esprit humain insomma in qualche modo è questa la nuova la nuova condizione che veniva che veniva messa in opera il libro di Franco propone appunto il testo che è uscito che voi tutti conoscete di Fukuyama la fine della storia non tanto per quello che dice ma appunto come emblema come sintomo della espressione di questo cambiamento anche se poi appunto Franco svolge tutto un altro discorso che ha riproposto anche nella sua introduzione cioè che in realtà la fine della storia di cui il titolo di quel libro era emblematico proprio perché significava il cadere di questo paradigma diciamo di una storia vista come indefinito progresso in realtà dietro quel titolo c'è una ben altra crisi una crisi che nasce prima del 92 ed è appunto la crisi del comunismo internazionale che appunto è già prima dello stesso 1989 comunque il secondo aspetto mi pare di questa crisi della storia è appunto caratterizzato da questo elemento della fine della convinzione che nella storia ci sia un progresso la storia è finita perché il passato non passa ecco il terzo aspetto che emerge dal libro è la sostituzione già è venuto fuori in diverse altri interventi è la sostituzione della memoria alla storia si tratta di un processo che investe gli individui lo abbiamo già ricordato ciascun individuo si sente portatore di una testimonianza di verità in quanto testimone oculare di quel che è successo e per l'appunto nel nostro nel nostro mondo il singolo propone la sua verità in quanto ritiene di conoscere esattamente la storia proprio perché l'ha vissuta proprio perché ne è coinvolto intimamente e nota giustamente Franco che non ha nessuna consapevolezza dei continui filtri con cui rielabora la sua testimonianza del passato se non altro appunto la prassi storiografica ci ha abituato a tener conto che la testimonianza è una testimonianza che varia continuamente perché appunto quel passato di cui si è testimone viene rivissuto alla luce distanza del presente che lo fanno risignificare e rivivere in modo diverso ma quello che è significativo è che non solo gli individui ma anche le collettività hanno appunto sostituito questa memoria alla storia ne abbiamo delle testimonianze mi pare esemplari particolarmente significative anche nei nostri giorni nel momento in cui si cerca di introdurre una legge sul negazionismo tanti altri paesi appunto hanno introdotto questo tipo di legislazione si profila per l'appunto uno stato una autorità pubblica che fa della memoria una verità ufficiale giorni della memoria giorni del ricordo che sono diventati appunto una prassi continua e costante del nostro mondo stanno a testimoniare come per appunto l'autorità pubblica abbia sostituito al processo della storia l'attenzione alla storia insomma basta pensare al nesso tra costruzione dello stato nazioni ottocentesco e pratica storiografica per capire la trasformazione che è intervenuta mentre per l'appunto allora l'attenzione era rivolta alla storia ora l'attenzione è invece rivolta alla memoria tanto da diventare solennità solennità civile festività civile ecco qui già Franco ha accennato al fatto come questo sia legato alla convinzione che vi è un momento traumatico che occorre fissare nella memoria collettiva per scongiurarne la ripetizione in qualche modo la convinzione che in tal modo si ripropone la convinzione che quel trauma quell'evento rivive continuamente del presente frutto di un passato che in qualche modo non si può superare ecco questi sono appunto tre mi pare degli aspetti che il libro propone della crisi della storia però c'è anche un altro un altro aspetto un quarto un quarto aspetto ed è un aspetto che mi pare è stato meno proposto nel libro ma sul quale credo che invece convenga riflettere e vorrei appunto sollecitare Franco a riflettere su questo aspetto cioè uno degli elementi della crisi della storia anche sta ed è determinato lo accenna il libro dal fatto che sono stati gli storici ad un certo punto riflettendo sul loro mestiere a scoprire che quel certo tipo di storia che era stata fatta fino a quel momento in realtà era funzionale a forme di legittimazione politica cioè c'è stato ad un certo punto la crisi della storia perché la storia ha scoperto che il modo in cui ha proceduto era un modo all'ottrio illudendosi di ricostruire quello che era accaduto nel passato in realtà svolgeva un discorso di giustificazione del presente appunto non c'è solo il tema dello stretto rapporto tra la professionalizzazione del mestiere di storico e la costruzione degli stati nazionali che per l'appunto è un dato ottocentesco che mi pare difficile da dimenticare ma c'è tutta una serie di altre vicende lo accenna direttamente appunto l'introduzione al libro cioè che tutti i movimenti i grandi movimenti politici e sociali dell'Europa moderna liberalismo democratismo socialismo e così via sono stati in realtà accompagnati e sorretti da una pratica storiografica che diffondeva e presentava come elementi storici elementi mitici e simbolici funzionali allo sviluppo di quel tipo di movimento e questa appunto la scoperta in qualche modo di questo fatto è stato uno degli elementi che hanno reso più difficile ovviamente il fare storia ecco io credo però che qui si ponga in qualche modo un problema ed è il problema sul quale volevo appunto che anche Franco reagisse e cioè almeno due aspetti che conviene ricordare da un lato non tutta la pratica storiografica ottonovecentesca è stata una pratica funzionale alla legittimazione del presente alla legittimazione dei grandi movimenti storico politici voglio fare un esempio almeno in questa in questa sede credo che vada che vada ricordato cioè il tormentato itinerario cantimoriano per quanto lo si voglia sottoporre a critica è pur sempre dettato dall'esigenza di riuscire a trovare una via una critica storiografica che si liberi dai condizionamenti che personalmente cantimori aveva dato al suo fare storia dal cantimori fascista al cantimori comunista quei condizionamenti erano stati talmente pesanti che a un certo punto aveva ritenuto di dovere tormentarsi per cercare di uscire da questo tipo di modo di fare storia dunque non tutto non sempre non comunque è stato è stato così e qui ovviamente si pone un problema e cioè perché come dire non è stato questo tipo di storiografia a diventare una storiografia diciamo condivisa diffusa egemone insomma mi pare che non si possa eludere il problema che le storiografie hanno avuto orientamenti di tipo diverso non tutte appunto sono state funzionali alle diffusioni di elementi mitici e simbolici ma nello stesso tempo si è giocato qui una partita che la storiografia critica e riflessiva ha perduto allora perché l'ha perduto io credo che non possiamo esimerci da una questione di questo genere e c'è poi una seconda mi pare questione che è legata a questa e cioè è possibile ma allora credo che occorra appunto identificarne bene i termini e le condizioni anche guardando al passato è possibile una storiografia che si liberi dai condizionamenti in qualche modo politici è possibile a me pare che l'articolazione tra passato e futuro che è tipica dell'operazione conoscitiva della storia abbia una sua funzione civile ma è possibile distinguere una funzione civile da una funzione politica e quali sono le condizioni per cui appunto il fare storia l'articolare passato e futuro in maniera tale che l'operazione storica sia conoscitivamente utile alla costruzione del futuro e mi pare appunto questa è la funzione civile della storiografia che mi pare ineliminabile dal fare storia ecco quali sono le condizioni per cui questo tipo di fare storiografia non scada nella legittimazione nella funzionalizzazione del sapere storico ad istanze esigenze e progetti politici cioè mi pare che qui ci sia un nodo che nel momento in cui si parla della crisi della storia e della possibilità come fa credo molto opportunamente Franco di una storia che sia in grado di rispondere a questa crisi ecco trovare le condizioni e riflettere sulle condizioni per cui questo sia effettivamente possibile grazie dato che mi tocca questo ruolo adesso do la parola a Marcello che conclude questo giro di opinione io sarò molto breve perché credo che anche poi a Franco a tutti noi interessa sentire le reazioni dei futuri giovani dei giustodiosi informazioni come si è detto prima e quindi sarò davvero breve e devo dire anche avvantaggiato dal fatto che con Franco c'è una lunga consuetudine di discussione e quindi come dire ho il vantaggio rispetto ad altri a molti altri di aver avuto nel passato molte occasioni di discutere non del libro del tema ma sicuramente delle prospettive e dei punti di riferimento da cui parte questa riflessione di Franco e quindi come ho detto sarò molto breve cominciando dal fatto che questo è un libro che viene al momento giusto nel momento in cui ci invita a riflettere non solo sulla crisi della storia ma qui il rapporto storia società contemporanea nel momento in cui ci sono appelli per la storia che sembra in qualche modo rievocare vecchie forme vecchie fiduce se prendete l'ultimo numero del mulino trovate un appello per la cultura umanistica Sorosa Esposito e Galli della loggia dove c'è quasi una vecchia ancora un richiamo a una tradizione a una storia a un patrimonio umanistico in qualche modo deve essere difeso senza rimetterlo in discussione quasi un appello tutto sommato alla società di costruire quel clima quella narrazione nazionale quella memoria comune ma qui un grande racconto della modernità che solo può garantire il funzionamento di una comunità nazionale se prendete se ripensiamo solo di poco tempo fa l'anno scorso il clima in cui si sono svolte le celebrazioni un anno e mezzo fa del 150 anni avrete notato come c'è spesso come dire un richiamo a un modo di fa storia a un senso della storia che nei fatti poi non corrisponde è caduto ha ragione Franco quando dice qui c'è ormai una forte difficoltà degli soci professionali a parlare a chi? a parlare ai soggetti sociali dentro cui noi viviamo ed è una crisi non solo oggettiva ma anche soggettiva perché sono gli storici che vivono poi questo diverso mondo valoriale che noi non riusciamo è di esperienziale che noi non riusciamo più a comprendere allora che cos'è il postmoderno se lo chiedeva prima Firpo il postmoderno è il fatto che oggi quel racconto della modernità non ci dice più nulla questo è il fatto non possiamo discutere come chiamarlo se prendiamo Appadurai prendiamo Bauman ma è il problema che quel racconto che ci spiegava che viviamo in un mondo moderno oggi non ci dice nulla non dice nulla a noi soci professionali non dice nulla soprattutto ai soggetti che poi sono ai soggetti sociali al mondo e quindi anche a noi stessi allora l'operazione di Franco non è un'ennesima operazione di revisionismo storiografico perenne è uno scarto cioè ci invita a dire a riconsiderare alcune categorie sono nove potranno essere dieci undici dodici ognuno ha le proprie opzioni certo però non è però non è come indifferente Franco ha ridotto tutto alla mia operazione di storico cioè quello che ho fatto in questi anni però siamo attenti perché nell'indicare alcuni concetti c'è una gerarchia delle categorie e in qualche modo tu l'avrei fatto come risultato del tuo lavoro ma ci hai dato una gerarchia di letture del moderno di categorie importanti per leggere un moderno che oggi non funziona più per cogliere la crisi probabilmente appunto una categoria come religione chiese secolarizzazione o tutto corpo genere applica a vedere come gli storici l'hanno applicata negli ultimi anni ci avrebbe anche parlato in maniera più forte probabilmente di questa crisi e incapacità delle nostre categorie tradizionali di parlare di parlare a oggi comunque appunto Ben Vega quindi è un libro del genere o anche sulla scrittura della storia dimenticavo non so se qualcuno di voi ha letto quella bellissima recensione di Giovanni De Luna all'ultimo romanzo di Camilleri sulla scrittura della storia cioè su dove sta il modo di scrivere storia che non è fiction l'ultimo romanzo di Camilleri non è soltanto fiction ma fate il lavoro anche che farebbe uno storico professionale e allora è interessato anche anche questo però devo dire dov'è il problema che quel racconto del moderno era giocato su alcune categorie forti che vedeva identità collettive diciamo prima Franco le tute blu le tute bianche e i colletti bianchi i rivoluzionari i giacobini i proletari sono categorie che adesso sono esplose non solo perché noi sappiamo che il mondo dell'antico regime come dice Giuseppe Franco è un mondo plurale molto più ci vogliono letture plurali per coglierlo come è plurale il mondo che noi viviamo Franco pone questo anche come quasi un'opzione morale ma è anzitutto la necessità di descrivere che ci richiamano a un bisogno di racconto plurale delle società di oggi e anche di quella antica ma il mondo moderno è costituito su identità collettive forti e queste entità collettive non reggono più non solo perché non ci dicono il mondo perché oggi al mondo in cui viviamo in cui quella è stata chiamata l'esplosione della soggettività e affermazioni grandi schemi storiografici ne ricordo uno che ha a che fare con rivoluzione quando la Bruce Ernest la Bruce nel mille correggi Franco tu che conosci questa storia meglio di me nel 48 49 scrivendo un saggio sulle rivoluzioni dice ma le rivoluzioni avvengono nonostante i rivoluzionari anche in assenza dei rivoluzionari oggi queste affermazioni ci sembrano ovviamente incredibili ma perché non crediamo più che siano processi sociali economici che in qualche modo spiegano crisi rivoluzioni fratture se non ci mettiamo dentro la soggettività e la nostra abitura oggi è leggere questi processi giustamente dai soggetti quindi non più i giacobini dice Franco questa espressione la usa del libro mettiamo insieme persone che avrebbero neppure preso il caffè insieme è vero queste entità collettive non funzionano più e da qui appunto dicevo lo sforzo di Franco non è un'ennesima prova di revisionismo è invitare a un vero e proprio scarto su queste categorie i saggi sono saggi appunto su nove parole chiave categorie chiamiamole come vogliamo che hanno però una retorica comune e della retorica questo lo dico Franco ho condiviso con lui e con molti altri il lavoro nella redazione di storica è la retorica dei saggi di storica cioè si definisce un oggetto storiografico se ne fa la genealogia o l'archeologia si sottolinea la svolta ermeneutica accompagnata quasi sempre dei saggi nel volume di Franco dal riferimento infatti a un saggio di storica che avrebbe segnato che avrebbe fortemente in qualche modo sottolineato l'impatto svolta ermeneutica e si arriva oggi con un invito alla riflessività agli storici quindi su rivoluzioni identità l'elenco è stato fatto prima generazioni però proprio generazioni scusa Franco essendo qui alla scuola normale è uscito recentemente un bellissimo articolo sulla generazione dei normalisti di Marco Mondini che usa questa categoria per studiare la scuola normale non so se l'avete presente è un bellissimo saggio di Marco Mondini rimane un problema ovviamente che il campione è veramente piccolo e che la scuola normale non è l'ecol normale cioè non ha il ruolo che ha quella parigina però sulla generazione dei normalisti possediamo adesso un bellissimo articolo appunto un interessante articolo di Marco Mondini quindi generazioni rivoluzione identità alcuni saggi fortemente collegati tra loro stato stato moderno e poi appunto l'ultimo saggio sul Mediterraneo che è un po' più estrinseco lo ricordava bene Franco il senso di questo saggio e poi soprattutto il popolare che si articola in fondo in tre saggi cultura popolare violenza e potere e poi appunto in rivoluzione e poi opinione pubblica tutti i saggi costruiti in questo modo la genealogia cioè il modo in cui si è formato l'oggetto storiografico opinione pubblica bellissimo questo riferimento ovviamente aver sottriato questa ascendenza schmittiana del concetto di come funziona più o più pubblica in Habermas e il rapporto Habermas Coselle che è un rapporto strettissimo strettissimo cioè Habermas si capisce perché tre anni prima è uscito il libro di Coselle che è riferimento giustamente a Karl Schmitt non c'è alcun dubbio quindi opinione si ricostruisce questo la genealogia la formazione la storia di questa categoria se ne vede poi come dire il frammentarsi nell'impatto con con la svolta ermeneutica e soprattutto poi anche con il linguistico che non è però solo Iden White è evidente insomma forse prima non è soltanto Iden White il linguistico vuol dire bene altre cose ma insomma è quello per dire questa categoria ormai così come è stata creata forgiata non ci spiega più ci dice Franco guardate che però viene usata ancora ci sono storici che per c'è una parte di noi storici non c'è alcun dubbio della nostra categoria soci il nostro corporazione che un po' per come dire per tradizione un po' per volontà di non mettersi in discussione continua a usare queste categorie le usa in maniera molto molto banale molto come dire un uso semplice apportè in cui si studia qualsiasi cosa e si usa il termine pione pubblica senza rendersi conto della complessità e poi tutto come questo concetto si è in qualche modo appunto frantumato o ha risposto alla crisi ermeneutica all'inguistica così come potere così come rivoluzione ecco e i saggi infatti non a caso concludono sono in gran parte i saggi che invitano che seguono un percorso di decostruzione però e poi invitano a questo uso riflessivo a questo uso critico alla possibilità di utilizzarne in qualche modo in qualche modo per la comprensione appunto del presente molte conclusioni di questi saggi e dei vari capitoli ripetono in fondo questo appello il problema ritorno a dire è il senso storia modernità moderno tendo per moderno come noi abbiamo costituito un discorso che valeva a spiegare una genealogia del moderno come oggi questa categoria non funziona io non so se come diceva prima come diceva prima Daniele Menozzi gli storici in realtà sono stati anche consapevoli di questo rischio certo è che oggi oggi il gioco è questo il senso comune lo diceva prima Franco non viene dal racconto dei soci professionali viene da tante altre suggestioni ma perché io non credo che sia e qui mi avvia veramente la conclusione che vorrei poi sentire voi non credo che il problema sia soltanto di queste categorie della nostra capacità di usare con degli scarti queste categorie il problema credo sia proprio quello delle domande storiografiche cioè delle domande siamo è vero memoria storia memoria cosa sottolinea e questa espressione soggettività ciascuno si costruisce la propria storia e poi c'è una memoria collettiva ovviamente forte che è costruita su questo non c'è dubbio è costruita in qualche modo dietro ci sono apparati agenzie che producono senso la televisione i giornali i case editrici ci sono apparati che producono senso e quindi noi anche su questo e da questi apparati storici non ci sono più storici però hanno costituito un grosso apparato quello che io chiamo lo spazio storiografico europeo tra 8 e 900 è costituito uno dei più grandi apparati di costruzione di senso l'idea di nazione il nazionalismo ricordatevi quel discorso bellissimo terribile di Harry Pirenne 1923 quando dice guardate la colpa della prima guerra mondiale degli storici poi diceva anche dei chimici ma insomma tutto degli storici un discorso di Pirenne primo congresso internazionale dopo la guerra in cui Pirenne prende di petto gli storici in quanto costruttori di senso capaci di mobilitare forze che hanno portato a 12 milioni di cadaveri durante i pochi anni della guerra quindi è solo che questa funzione è finita perché quel racconto lì oggi non risponde a quello che dicevo prima al modo in cui a questa società che io anch'io sono d'accordo a chiamarla tranquillamente postmoderna ma nel senso che ho detto prima mi sembra e questa società saltano ovviamente anche le periodizzazioni ecco perché alcuni concetti storia moderna non ci possono stare più le periodizzazioni saltano e abbiamo difficoltà a costruire un altro racconto non è soltanto l'histoire ammiette di cui si parlava negli anni 80-90 cioè la storia in briciole insomma è il fatto che noi non riusciamo più a essere dentro gli apparati gli storici professionali allora il problema sono due immettiamoci facciamo questa storia degli storici professionali è stata fatta in un bellissimo volume pubblicato dall'European Science Foundation l'Atlas European Historiography 1800-2005 dove vedete attraverso le carte cartografate questo spazio vedete la nascita la grande diffusione è quello che oggi è la fine di questo spazio storiografico europeo allora il problema prima è questo dove sono oggi gli apparati che costruiscono senso su quali domande costruiscono senso a quali esigenze o domande sociali risponde l'altra questione è ma quali sono le domande che noi storici le domande storiografiche noi dobbiamo porci dobbiamo continuare ancora a riflettere su una modernità che non dice nulla siamo attenti l'attenzione alla world history non serve soltanto ad allargare il campo poco fa Massimo Firpo in qualche modo sollecitando Franco diceva ma in fondo stato moderno in Cina c'è lo stato moderno la domanda che viene dalla world history non è questa ma perché devo andare a cercare lo stato moderno in Cina chiaro la world history ci spinge non a chiarire se alcune categorie sono applicabili ad altre aree ci dice ma perché usate questa categoria per disegnare forme di potere forme di coercizione forme di organizzazione di uno spazio e così via così come devo dire per certi versi la situazione storica oggi mi sembra simile alla situazione dei geografi che sono forse gli societari sociali più vicini a noi che avvertono questa crisi e queste domande anche loro quindi la questione è probabilmente lo scarto non solo all'interno di queste categorie che abbiamo tradizionalmente adoperato ma lo scarto anche rispetto a queste stesse domande allora un po' per alleggerire le questioni un po' per divertirci e volevo regalare a Franco la visione di un quadro il quadro ovviamente non lo posseggo e l'ho preso è un grande libro fuori qui non l'ho portato quindi l'ho fotografato e questo è un quadro del 99 e la redazione di Past and Present del 99 è un quadro famoso dovete gli storici di Past and Present ecco volendo buttarla in scherzo ma non troppo secondo me non serve sedersi in quel salotto in questa redazione che è quella che ci ha dato l'agenda storiografica l'agenda delle domande fino agli anni 90 mettersi tra questi gentili signori e signore secondo me oggi non ci porterebbe a formulare le nuove domande storiografiche questo dico probabilmente lo scarto non è soltanto nella revisione dei concetti ma e qui si va a notare come dire nel mare magnum cioè di una interlocuzione più forte e più capace dei soci di ascoltare le domande che vengono al sociale certo finché abbiamo queste categorie è stato moderno la rivoluzione senza i rivoluzionari e poi che ne so generazioni usate in quel modo come lo ha raccontato Franco non ne usciamo probabilmente bisogna sapere ascoltare e formulare le nuove domande e qui lo chiudo con due con le ultime due velocissime osservazioni la prima questo racconto del moderno di cui cerchiamo a fatica di liberarci questo è il risultato non di un dibattito storiografico come dire di una tradizione tra gentiluomini sosseduti in questo tavolo ma come nel campo storiografico è il risultato di lotte anche forti lotte di potere non solo accademico ma di potere vere lotte ideologiche e voglio fare questo esempio il modo in cui si è costruito questo racconto dell'Europa l'eccezione quello che noi chiamiamo oggi l'eccezionalismo europeo se andiamo nelle astrografie degli anni 20 e degli anni 30 e questo è il risultato di una lotta molto forte di una capacità degli storici di un gruppo di storici il gruppo Pirenne e poi il gruppo francese per una parte ma anche l'English Historical Review di mettere da parte e lo leggiamo e ce ne accorgiamo se andiamo a vedere i verbali dei congressi internazionali di storia quello di Oslo nel 28 33 38 e la messa in disparte di una serie di temi che venivano dalle nuove storiografie dell'Europa orientale e dell'Europa balcanica aver messo cancellato del dibattito storiografico posizioni cito tre Oscar Haleski grande storico polacco degli anni 20 Bibo grande storico e politologo ungherese che richiamava cos'era la modernità europea ma soprattutto uno storico rumeno come Iorga che nel suo libro Bisanzio dopo Bisanzio invitava una diversissima ricostruzione del moderno a una diversa lettura della storia europea del non eccezionalismo europeo a favore invece di Labrousse rivoluzione rivoluzione e poi di Brodella L'Hondure e prima ancora appunto il dibattito che veniva tra storici Francela e Liannal e Segno Bo dall'altra parte insomma non è un risultato non è soltanto è il risultato di un vero e proprio scontro e io credo che forse noi come storici che viviamo oggi in Europa ancora in questo spazio geografico in questo spazio stereografico forse questo potremmo in qualche modo approfondirlo non dico riappropriarsi non è che riappropriarsi di Yorga o 70 anni dopo ci salvi ma insomma ci fa capire la complessità la drammaticità in cui si è formato questo racconto del moderno e l'altra questione e qui la seconda situazione chiudo la impermeabilità dell'astrofio europea non dico italiana europea soprattutto alla World History che veniva dall'UNESCO guardate che la World History il titolo World History è una rivista del 1947 non arriva oggi la World History è la grande rivista dell'UNESCO 1947 curata da personaggi come uno straordinario personaggio si chiama Julian Huxley ma c'era anche Favre Lucien Favre il quale per un anno un anno e mezzo ha diretto ha lavorato che poi il progetto ha fatto cadere il progetto e faticosamente poi l'UNESCO ha costruito la sua World History la History of Humanity la History of Mankind e la History Caribbean aria cioè le grandi storie che l'UNESCO ha prodotto in questi ultimi anni ecco la questione è anche questa l'impermeabilità di la stereografia europea ma perché non ricordata non perché uno debba fare il processo agli storici nel senso che probabilmente il moderno è stato il frutto di esclusioni di dibattiti non è soltanto una concentrazione su uno schema quello schema è il frutto di contrapposizioni di forti che ci sono state fortissime e che ritorno a dire forse appunto sedersi in questo salotto appunto non è che ci risolverebbe i problemi spiegandogli però di essere più riflessivi cioè farei uno scarto forte non solo sulla categoria ma anche sulle domande la griglia delle questioni che dovremmo porre grazie molte Marcello mi pare che la carne al fuoco come si dice in questi casi sia tanta prima di consentire a Franco che ha preso tanti appunti di rispondere credo alle varie osservazioni vorrei sentire che se nel pubblico c'è qualche domanda qualche osservazione qualche ulteriore contributo prego prego dunque qua c'è un microfono che può essere opportunamente volevo fare un'osservazione veloce cercando di essere il più breve possibile e una domanda al professor Benigno l'osservazione secondo me c'è riferimento all'importanza della costruzione della memoria di come appunto la memoria sia stata fortemente utilizzata a livello politico sentivo prima il professor Phil poi mi ha un attimo sorpreso la sua come dire la sua perplessità e la sua un po' paura a dire il fatto che la Shoah ad esempio è stata fortemente utilizzata a livello politico questo non vuol dire simpatizzare o legittimare quel discorso ma ad esempio pensiamo questo l'ha detto bene Enzo Traverso ad esempio su come ad esempio la Shoah è stata fortemente utilizzata per assicurarci al fatto che viviamo una società perfetta che quella del passato negativo era l'inferno adesso invece viviamo nell'età liberale nel paradiso assoluto infatti Traverso fa un bellissimo esempio di lui che si trova imbarazzato nel vedere nel 2003 Bush e Berlusconi ad Auschwitz e appunto noi siamo la società perfetta mentre il comunismo e il nazismo sono stati appunto il mare assoluto quindi questa costruzione della memoria è come essa viene fortemente utilizzata per legittimare tutto un discorso e qui ci sarebbe molto da dire dell'una eccetera eccetera e poi un altro aspetto voglio fare una domanda al professor Benigno devo dire che non ho ancora letto il libro quindi probabilmente la risposta è contenuta nel libro e in parte penso è stata accennata cioè sul discorso del revisionismo e che secondo me anche questa meriterebbe sarebbe stata una parola che assolutamente avrebbe meritato una una sua come dire spiegazione come come categoria vorrei sapere se lui pensa che come ad esempio dice Claudio Pavone o come ha detto Nicola Gallerano se si augura una scomparsa dell'utilizzo della categoria del revisionismo nonostante questi due grandissimi storici sono stati grandi critici del revisionismo cosiddetto politico o se invece come ne so penso ad Angelo Dorsi ad altri pensa che sia una categoria che si possa ancora utilizzare appunto il riferimento al suo utilizzo politico cioè Pavone Gallerano soprattutto Pavone penso ad esempio si augurava una scomparsa della categoria revisionismo perché altrimenti anche forse giustamente diceva che da una parte c'è una verità assoluta l'ortodossia e dall'altra c'è l'eterodossia e questo è soprattutto appunto tipico dei regimi totalitari quindi ecco che cosa pensa lui da questo punto di vista se il revisionismo come categoria di utilizzo politico si può utilizzare come storico se invece magari è più appropriata quella di uso pubblico della storia ecco grazie qualche altra considerazione magari francesco se può distribuire il microfono se c'è qualcuno ok grazie grazie non ci sono ecco prego sì salve devo dire io sono un po' in imbarazzo in questo tipo di discussioni perché più di dieci anni fa che io sono entrato all'università e sono entrato all'università quando già si parlava di crisi della storia spererei di invecchiare insomma con tutt'altro con un altro diciamo clima e gli ultimi due interventi però mi hanno fatto sorgere un altro tipo di scarto cioè gli interventi di professor Menozzi e professor Verga e abbiamo cominciato a parlare di crisi della storia a me non sembra che la storia sia in crisi nel senso di produzione di immaginativa degli storici di nuovi metodi siamo di fronte a una crisi degli storici più che della storia o no cioè sono gli storici che sono in crisi perché non hanno saputo difendere come dire quel campo istituzionale che doveva difenderli o non tanto difenderli non mi piace la metafora della cittadella dell'assedio ma che gli poteva permettere di dialogare con le istanze della società come la produzione mediatica eccetera eccetera che ci saranno sempre e che non potranno mai essere sconfitte però questi sono gli stessi storici che hanno ad esempio permesso di rompere il rapporto tra ricerca universitaria è istruzione superiore e questo nessuno ne ha parlato ma a me sembra che sia diciamo uno dei grossi problemi oggi perché se oggi ci lamentiamo di una cultura della memoria che avanza è perché non abbiamo gli strumenti per fermare questa avanzata ma l'unico strumento è la scuola insegnando fin da piccoli i bambini che cosa è una storiografia critica e che cosa è la storia rispetto ad altro e oggi siamo in una situazione in cui tutto questo dal punto di vista proprio funzionale non funziona allora più che crisi dei concetti a me sembra che siamo davanti a una crisi delle strutture le strutture istituzionali non credete? Grazie Allora io darei la parola a Franco per le sue osservazioni conclusive Grazie a tutti gli intervenuti per una discussione che è stata mi pare molto ricca e vorrei cominciare proprio dai due le persone del pubblico che sono intervenute la prima invitava la prima domanda invitava a porre il problema dell'utilizzazione politica della memoria e poi a ragionare sul problema del revisionismo se sia o no una categoria da utilizzare ma io su questo vorrei dire sì io so bene che c'è tutto un versante che nel libro non viene molto trattato in verità della utilizzazione politica della memoria io però non l'ho affrontata questa questione perché tengo sia come dire ineliminabile come posso dire cioè c'è sempre questo è un dato difficile da 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 contestare è un fatto diciamo così però io credo che buttarla in politica per uno storico non è mai una soluzione diciamo io credo che noi ci siamo delle ragioni io vado alla ricerca di ragioni che vanno al di là della strumentalizzazione politica dei processi che noi abbiamo con cui abbiamo a che fare quando parliamo del revisionismo per esempio non c'è dubbio che cito una cosa lontana dalle cose che più normalmente pensiamo quando parliamo di revisionismo per intenderci quando si è costruito il revisionismo sulla rivoluzione inglese del 600 negli anni 80 del 900 non c'è dubbio che il clima politico era quello segnato dall'ascesa di Margaret Thatcher una signora che diceva society that's thing that's exist non esiste la società ecco è chiaro che c'era questo contesto però uno storico che debba parlare delle revisionistiche in inglese cosa fa parla della Thatcher non credo credo che debba andare alla ricerca delle ragioni io ho provato a farlo in quel caso delle ragioni che sono ragioni storiografiche anche ragioni storiche che spingono allora diciamo pur non dimenticando che c'è sempre un uso politico tuttavia l'enfasi io l'appoggerei sui processi da questo punto di vista la risposta è molto precisa alla tua domanda il problema del revisionismo è una categoria da utilizzare il revisionismo questa è la domanda io penso che se per il revisionismo intendiamo l'esigenza che abbiamo di ritornare sul passato guardandolo da altri punti di vista questo è costitutivo dell'operazione storica è costitutivo dell'operazione storica non ci può essere qualcosa che non è soggetto a revisione perché siccome la storia appunto è una disciplina scientifica nel senso non popperiano che è aperta alla società civile alle domande alle questioni continuamente è obbligata a ritornare su se stessa ritornare sulle due domande l'altra domanda invece l'altra persona che è intervenuta dice così dice una cosa che sottoscrivo non è la crisi della storia la crisi degli storici è esattamente quello che penso cioè della storia intesa come storia accademica laddove invece la storia non accademica è molto presente nelle nostre vite e nel nostro immaginario diciamo e quindi è esattamente questo poi sul fatto che ci sia possa essere anche un abuso del termine crisi questo sicuramente c'è diciamo tuttavia questo non è un libro sulla crisi della storia è contemporaneamente sulla crisi e sulla sfida che è un altro modo di fare storia fa alla storia stessa e quindi è una cosa un po' diversa quindi diciamo dieci anni fa non si diceva questo oggi proviamo a dirlo quindi diciamo qualche cosa è cambiata forse sulla questione del rapporto tra ricerca universitaria e la scuola io come lei la penso esattamente dalla stessa maniera tuttavia non sono sicuro che sia la colpa degli storici questo almeno gli storici hanno molte colpe ma non so se il fatto che dico per dire i professori universitari non facciano più gli esami di maturità o che nella formazione degli insegnanti non sono i professori universitari quelli che li formano ma pedagoghi e altri personali che viene dal mondo stesso dalla scuola non credo che siano gli storici responsabili di questi processi non del tutto almeno c'è una crisi delle strutture insieme alla crisi dei concetti beh le due cose sono collegate perché uno degli assunti di cui non c'è stato tempo per parlarne questo libro è anche una riflessione implicita sul rapporto che c'è tra le parole e le cose perché noi veniamo da un mondo in cui siamo stati abituati a pensare che ci sono le cose e le parole sono come dire il riferimento a queste cose siamo venuti da un mondo in cui pensiamo che uno dice bottiglia e la parola bottiglia rimanda a questo quello che è interessante è che viviamo nello stesso tempo un'esperienza quella del mondo dei media dei nuovi media specialmente che ci fanno dubitare che il rapporto tra le parole e le cose sia così semplice e che siamo molto più interessati ai contenuti performativi delle nostre affermazioni alla maniera in cui i nostri discorsi cambiano il mondo per dirla così in certo senso si potrebbe dire parafrasando la scena di prefasi di Marx per cui i filosofi hanno finora interpretato il mondo e finito il momento di cambiarlo è che in realtà i filosofi non hanno sempre cambiato il mondo e che Marx forse lo ha cambiato di più come filosofo che non come dirigente dell'internazionale tutto sommato o almeno altrettanto dunque le cose sono da questo punto di vista credo interessanti proverò a essere molto breve ma insomma a ritornare alle questioni che poneva Massimo Firpo che come gli altri relatori io ringrazio molto per le belle parole insomma un parterre delois qui con grandi storici e quindi questo ringraziamento non è formale ma insomma è sostanziale ci dice Massimo insomma tu parli di un mondo nuovo che ci circonda e che però non sai definire sì ammetto io non sono capace di definirlo questo mondo che viviamo come dice il poeta no? non chiederci parole che mondi possa aprirti sì qualche storta sillaba secca come un ramo non sono io quello che può raccontare il mondo come però quello che è chiaro è che quando mi vedo alla televisione un film come Tempi Moderni di Charlie Chaplin io so che io e quel mondo non viviamo nello stesso mondo il mondo dell'industria fordista il mondo in un certo modo di concepire lo Stato quel mondo è passato non so come dirlo ma insomma è un altro mondo allora poi possiamo utilizzare le parole che vogliamo e se il postmoderno non piace io non farò certo la difesa di questa parola che non mi pare molto azzeccata neanche a me però certo tra noi e quell'epoca lì tra noi e gli anni 30 40 50 del 900 credo le differenze sono le differenze le distanze sono sul piano strutturale sul piano culturale come dire sono quello che ci interessa di più come storici è che molto spesso mentre abbiamo questa avvertenza questa sensazione poi continuiamo a macinare concetti che da quel mondo vengono e che arrivano a noi e continuiamo a considerarli come operativi qui ci sono dei problemi che ho cercato poi di mettere in luce la seconda osservazione di massimo fir poi sulla questione che il libro è prigioniero della storia dell'occidente su questo ammetto ammetto è vero è vero non c'è qui in questa è un po' complicato diciamo insomma già come dire confrontarsi come una storiografia occidentale insomma non solo italiana è abbastanza complicato poi se questo aggiungere anche è al di là delle mie forze però capisco il problema capisco il problema le due domande di cui parlava Marcello Verga ora ci torniamo sono probabilmente delle domande che nascono da degli incroci che sono degli incroci spaziali e degli incroci temporali e tra gli incroci spaziali e temporali con altro da noi e questo mondo che si è fatto globale ce ne propone tante di queste nuove domande e sicuramente sicuramente ci sono Andrea Giardina ha detto delle cose di cui lo ringrazio molto non credo di essere anche degno delle sue lodi e molte delle cose che dice poi sul sul passato antico io non so se sono capace di rispondere alle sue questioni e cioè fondamentalmente se è possibile immaginare un'idea di rivoluzione che possa essere radicata nel mondo antico e diversa da quella che si è costruita come concetto nell'Europa del Seicento appunto attraverso quella queste sono io sono una questione a cui non so rispondere e sono gli storici antichi che ci devono dire naturalmente su questo c'è solo una qualche perplessità ma anche qua sul fatto che i fondamentalismi contemporanei ci possono aiutare a capire i fondamentalismi ecco infatti lo dico della stessa maniera perché io c'ho sempre un po' di perplessità da storico in questo senso mi sentirei dalla parte di Massimo molto tradizionalista su queste operazioni qua io so sempre delle perplessità perché penso che il nostro metodo tradizionale che ci hanno insegnato i maestri è quello genealogico non è quello a rebù anche se so benissimo che talvolta il metodo a rebù può funzionare ma ci vogliono storici del calibro di Mark Bloch per farlo non è facilissimo una questione che poneva molto bene Andrea è la questione della biografia e guarda che come se uno va nelle scaffali delle biblioteche delle librerie non solo italiane ma americane per esempio vede che la biografia ha uno spazio ormai enorme no? la storia accademica è sparita cioè non ci sta più io ricordo quando andavo da Blackwell's a Oxford e c'era questa libreria che era una biblioteca io ero incantato perché era una biblioteca cioè c'erano tutti gli argomenti i settori per argomenti era una cosa fantastica non c'è più niente di tutto questo quella fa parte di un pezzo di mondo che è andato via adesso la biografia è enormemente presente e naturalmente i libri sulla questione dell'olocausto sono un'altra parte importante di questa quindi ci occorrebbe riflettere nel senso che è interessante come è cambiato da questo punto di vista la biografia è parte oggi di un rapporto della gente con la storia diversamente costruito però anche tradizionale perché tradizionalmente la biografia ha avuto questo ruolo nella storiografia italiana c'è stata una resistenza molto forte alla biografia bisognerebbe indagare bene questa cosa io non so non avrei risposte definitive forse Marcello può avere delle idee sulla biografia come ma certamente non c'è dubbio che anche oggi invece c'è una crescita anche per ragioni non spettacolari io voglio dire la resistenza che abbiamo avuto a scrivere biografie presenta un sacco di problemi anche dal punto di vista della ricerca e dell'interesse vero degli storici per quelle cose che sono accadute voglio dire adesso soltanto cominciamo ad avere per le cose che interessano a me come storico dell'età moderna alcune importanti biografie su personaggi che ci permettono di capirci qualche cosa ma per molto tempo non abbiamo avuto manco una diciamo di biografie importanti di vicerre condottieri cioè il rifiuto della storia evenemenziale ha portato poi al fatto che però poi mancano quindi diciamo su questo ci sono aspetti 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 diversi Andrea poneva il problema quella che è chiamata con un'espressione molto bella l'aggressività del continuismo cioè questa tendenza specialmente nella storia anglosassone a vedere gli elementi di continuità io mi sono imbattuto nella mia ricerca con questo tipo di tendenza in occasione quando ho frequentato per un periodo il gruppo di studio che c'era a Cambridge sulla storia della popolazione uno dei gruppi che ha costruito la storia della famiglia insomma e lì si vedeva molto bene io lo vedevo con molta nettezza come nel gruppo di Peter Laslett Richard Wall e questa gente qua soprattutto in Peter Laslett l'elemento ideologico e il prevalere degli elementi della continuità della famiglia inglese come modello archetipo e contrapposto a presunte famiglie europee altre non ben specificate in verità aveva una forte tendenza ideologica come dire noi siamo inglesi e siamo fatti così e questo valeva anche in senso anti-marxista in certo senso la vera ragione del perché siamo inglesi e perché la nostra famiglia fatta in questo modo ha permesso l'accumulazione originaria di cui parla Marx ma l'ha fatta la famiglia non l'ha fatta ecco quindi diciamo questi elementi della continuità come che tu notavi sono molto presenti io credo che che in altri campi come quelli che tu hai mostrato questa tendenza sia presente non c'è dubbio che ci sono ricorrenti tentazioni ideologiche credo che il nostro mestiere non è quello di andare appresso alle tentazioni ideologiche ma di quello di fare riferimento alla verità delle cose che sono accadute se nelle cose che sono accadute ci sono elementi di discontinuità dobbiamo metterli in rilievo non abbracciare Daniele io sono totalmente d'accordo con te che uno degli elementi della scoperta della storia è stata fatta dagli storici stessi quando hanno scoperto il carattere legittimante della loro funzione di storici al servizio diciamo tra virgolette di imperi stati ideologie partiti non vi dubbio alcuno io devo dire anche che penso che questa autocritica che gli storici hanno fatto sia stata tardiva e parziale e non condotta fino in fondo penso al lavoro che hanno fatto gli antropologi su questo terreno beh chiaro io lo capisco gli antropologi come si diceva una volta servi del colonialismo no? è chiaro come dire lo vivono più sulla pelle no? il fatto di essere stati quelli che organizzavano il colonialismo cioè permettevano davano il fondamento culturale per poter per la dominazione quindi chiaro che loro hanno fatto una autocritica più profonda di quanto abbiamo fatto noi però non c'è dubbio anche che gli storici l'abbiano fatta solo in parte e quindi come dire io quando dico quando faccio un appello per la storia critica razionale contro diciamo così la storia memoriale per i suoi aspetti emotivi non è che non sono consapevole che però gli storici tradizionali hanno avuto il successo quello che Marcello chiamava lo spazio proprio perché stavano a perché stavano accanto perché minavano le mosse dei potenti come Michel Deserteau ci ha raccontato la funzione dello storico come colui che ripercorre le orme dei grandi quasi riscrivendole le sue azioni e quasi immedesimandosi con lui credo che noi siamo usciti da questa fase siamo in una fase di delegittimazione del ruolo degli storici dal punto di vista del rapporto con il potere io penso che sia salutare questo ma noi dobbiamo avere un rapporto con la gente e non con il potere la gente ha bisogno di sapere le cose come sono andate ha bisogno di verità e noi questo dobbiamo cercare di dare il fatto che il potere non ci consideri di più degli strumenti e solo bene per la nostra corporazione per il nostro mestiere penso certo molti colleghi non sono molto felici questo rende dei problemi forse dissolve perfino la corporazione però che cosa ce ne facciamo è per questo che abbiamo fatto gli storici per essere dei costruttori di legittimazione di partiti non credo io almeno no quindi diciamo da questo punto di vista mi sento più comodo a a esercitare liberamente come dire la funzione critica che è costitutiva del mio mestiere piuttosto che non però il problema sta tutto lì fin quando gli storici sono stati appunto a poche è chiaro che la loro funzione sociale era ben altra e la loro capacità di raccontare le cose per come sono andate diciamo così relativamente naturalmente piuttosto discutibile diciamo non è così con Marcello siamo siamo d'accordo su tutto forse un po' meno sulla intervista di De Luna a Camilleni su cui avrei delle cose da dire ma adesso non posso naturalmente è la questione delle domande storiografiche che lui pone è cruciale credo che noi dobbiamo costruire nuove domande se vogliamo fare nuova storia non ve dubbio diciamo da questo punto di vista il vecchio refrain storicista che andava di moda negli anni 50 qual è il tuo problema come si diceva qual è il tuo problema storiografico credo che vada ripreso quello è cioè facciamo che le vostre ricerche non siano accumulazione di cose che non si sapevano ma problemi ritrovare la centralità del problema storiografico significa quello che diceva Marcello le nuove domande e da questo punto di vista certo gli storici a ragione lui sono spaisati come i geografi sono spaisati come i geografi in questo mondo che è diverso da quello che ha avuto qui a ragione lui perché sarebbe un bel libro da scrivere questa forte selezione di temi di autori di cui parlavi per cui certe tematiche e certe storiografie certi autori sono andati avanti altri sono stati invece cancellati o temporaneamente cancellati perché poi è interessante come invece poi altri autori sono stati poi recuperati con dei frontendimenti poi bellissimi non so Norbert Elias faccio un esempio Norbert Elias che viene riscoperto negli anni 60 non è Norbert Elias che scrive negli anni 30 è una cosa un po' diversa questa operazione sulla world history io voglio dire soltanto l'ultima cosa che dico io credo che la generazione degli storici futuri si dovranno misurare con questi slargamenti però dovranno farlo in maniera probabilmente anche diversa dal punto di vista proprio delle tecniche del lavoro storiografico quindi non si tratta soltanto di come dire scrivere una storia più ampia quello l'abbiamo già fatto cioè la storia dell'Europa allargata diciamo così è stata già fatta o è stata fatta magari male ma insomma la data degli schiavi o il nuovo mondo sono stati studiati non è mica che il problema è diverso il problema è di questa probabilmente diversità di modi di organizzare il lavoro anche di vivere ma penso che questa generazione sia più attrezzata per questo quando storici italiani andranno a vivere e lavorare in Giappone allora a lungo forse allora potranno cominciare a dirci qualche cosa di interessante dal punto di vista della world history visto dall'Italia o anche dalla storia anglosassone la questione è abbastanza più complicata però ripeto la generazione che viene probabilmente avrà queste avrà queste possibilità quindi come dire io ho cercato di dire qualcosa su quello che è stato detto però volevo continuare a ringraziarvi perché le questioni che avete posto sono so che non sono state non è possibile rispondere a molte di esse con le cose che ho detto rimangono questioni aperte ma questo voleva essere anche l'intento del libro cioè un libro aperto un libro che possa circolare e suscitare interrogativi e magari altre risposte diverse dalle mie perché poi c'è c'è in tutta la consapevolezza che mentre dobbiamo tenere fermo quello che non possiamo dire poi invece su quello che possiamo dire dobbiamo essere ineluttabilmente differenti dobbiamo essere aperti alla possibilità che la pensiamo diversamente bene l'obiettivo dell'incontro era quello di disseminare degli stimoli mi pare che ci sia perfettamente riuscito quindi grazie molte a tutti voi che siete intervenuti ed in particolare a coloro in primo luogo Franco che ci ha offerto questo libro e a coloro che ne hanno parlato grazie buonasera grazie